Passiamo al pomeriggio di oggi, che è centrato su un tema molto specifico. Tutti gli interventi di oggi pomeriggio sono legati da un elemento che hanno in comune. L'elemento che hanno in comune è un evento che si ebbe nell'agosto del 1948 a Londra. Cos'era questo evento? L'Europa usciva dalla Seconda Guerra Mondiale distrutta, con enormi problemi di ricostruzione e di ritorno alla normalità. Ma particolarmente grave era poi la situazione italiana, che era stata dilaniata anche da una guerra civile e così via. Ma ciò nonostante, a Londra si organizza un convegno organizzato dall'Institute of Landscape Architects, in cui si riuniscono architetti, 150 architetti di quasi tutta Europa e di molte nazioni straniere. E la cosa molto interessante è che partecipano diversi italiani. Nonostante in Italia successe da una situazione così disastrosa, si cominciava anche a capire che i temi del giardino e del paesaggio, apparentemente secondari rispetto a quelli che erano i temi della ricostruzione, erano comunque degli elementi necessari per una nuova vivibilità delle città, con il verde chiamato anche a creare delle pause nel tessuto urbano delle città moderne. Questo evento di agosto di Londra 1948 è documentato purtroppo solo da un catalogo, un catalogo striminzito di 35-40 pagine senza illustrazioni. E tra l'altro ne sono conservate pochissime copie. Probabilmente sarebbe anche bello fare un'indagine più approfondita, capire se c'è della documentazione ulteriore. E non ci sono foto. Ma da questo catalogo noi possiamo dedurre quali sono stati gli italiani chiamati a partecipare. E sono quelli di cui parliamo oggi pomeriggio. E che sono quindi Maria Teresa Parpagliolo, che tra l'altro avendo sposato un inglese è un po' il tramite tra gli italiani e il mondo anglosassone. Sono la Luzzato, altra persona di cui parliamo oggi. Sono De Vico, di cui abbiamo parlato ma oggi ne parleremo in modo specifico. Sono Michele Bussirivici, forse il personaggio meno noto tra quelli per cui ne parlo io. Ne presento io qualcosa. Poi sono Porcinai, che è sicuramente il più noto tra i paesaggisti italiani del Novecento. E quindi abbiamo questo panorama di personalità italiane, di architetti del paesaggio italiani che partecipano a Londra a questo incontro. E quindi il mio intervento verterà su una presentazione del convegno di Londra e quali sono i protagonisti e poi con un focus su Michele Bussirivici e poi le colleghe interverranno presentando gli altri protagonisti di questo evento. Allora, se vogliamo iniziare con la prima diapositiva. Allora, mentre mettono la diapositiva vi comunico e faccio un saluto a tutti gli amici e colleghi che ci stanno seguendo a distanza, mi dicono che sono più di 250. Quindi mi sembra una cosa veramente molto bella che tante persone ci stiano seguendo non potendo essere presenti e condividere qui con noi. Quindi mi sembra un fatto molto bello. Quindi un saluto a tutti questi amici fedeli che ci stanno seguendo. Allora, Londra 1948, la mostra del giardino. e i protagonisti. Allora, la mostra e l'incontro si intitolavano The Landscape of Work and Leisure organizzato dall'Istituto of Landscape Architects di Londra e di Cambridge e vi figuravano illustri personaggi quali Francis Mawson, Jeffrey Gellico e soprattutto vi era un personaggio molto stimolante che era René Pescher che è stato uno dei fondatori dell'ICOMO FIFLA anche belga il quale ha molto premuto in quell'occasione perché si passasse anche a delle proposte concrete che poi vedremo. Cioè la fondazione dell'IFLA l'International Federation Landscape Architects che nasce appunto a Londra nel 1948 quindi che darà luogo poi a degli approfondimenti successivi. Allora, partecipano a questo incontro Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Italia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, USA non partecipa la Germania non viene detto niente nel catalogo del perché la Germania non ci fosse ma da una serie di considerazioni che vengono fatte nella presentazione probabilmente è un fatto anche politico un fatto politico anche se subito o dopo molti di costoro che hanno partecipato che hanno promosso questo convegno instaureranno rapporti di collaborazione non so, ad esempio con Silvia Crow e Brenda Kelvin avranno contatti e collaborazioni di lavoro con Hertha, Amenbacher quindi insomma dei rapporti con gli architetti tedeschi saranno instaurati subito dopo però ecco la Germania non è prevista e la mostra di Londra è divisa in due settori un primo settore, una mostra storica la scena ritrospettiva la ritrospettiva vengono esposte riproduzioni e immagini di quelli che erano considerati i fondamenti della storia del giardino suddivisi anche per nazioni per l'Italia vengono presentate le riproduzioni di opere raffiguranti la villa Dobrandini a Frascati, la villa d'Est e Attivo, la villa Medici a Roma Mattei e Ludovici sempre a Roma l'unica che non è romana, la villa Simonetti a Milano quindi Roma ha un predominio assoluto per la Francia abbiamo due diverse impostazioni abbiamo i giardini di Lenotro ovviamente che dominano però poi abbiamo anche Dampier, Hermenonville, Centilly che sono invece giardini paesaggisti quindi abbiamo anche il secondo aspetto per la Gran Bretagna William Kent, Centill, Lancelot Brown e inoltre c'è Ed Park poi c'è una sezione con ritratti di grandi botanici tra cui c'è anche Gertrude Jekyll che insomma è molto diciamo aggiornata tutto sommato a questa mostra e questa è la parte storica tra l'altro figurano in questa mostra i dipinti della collezione Maraini delle ville di Roma che è un tema sul quale Alessandro Cremone e io ci stiamo facendo esegucci perché questa collezione è stata smembrata, venduta non si capisce dove sia finita ed era un documento interessantissimo quindi speriamo che qualcosa viene fuori ogni tanto ma insomma c'è ancora da lavorare allora quali sono i progetti esposti? i progetti presentati sono appunto di questi paesi mancano Norvegia, Canada, Norvegia, Uruguay che hanno partecipato ma non hanno mandato testi per il catalogo quindi non sono stati messi in catalogo per l'Italia vi è una bella rappresentanza allora qua vediamo la rappresentanza dell'Italia però prima dobbiamo fare una considerazione non vi faccio vedere l'elenco degli altri paesi perché sarebbe troppo un elenco solo noioso però quello che è molto importante è notare come alcuni paesi come la Svezia, la Svizzera, l'USA e la Gran Bretagna mettono soprattutto spazi pubblici o semi pubblici quindi parchi annessi a scuola, ospedali, fabbriche spazi ricreativi o sportivi, cimiteri paesi come Danimarca e Belgio in cui domina l'opera di Pecce soprattutto ci sono molte residenze private pochi sono gli interventi di architetti e paesaggisti di restauro secondo il panorama che ci ha fatto vedere Maria Adriana con tanta ricchezza di documentazione include solamente la Lameda di Osuna la Granja e il Buon Retiro per la Spagna e la Francia cita appunto Greber con la Villa di Marlia come restauro novecentesco d'eccellenza l'Italia ha ben 25 progetti che non sono, diciamo, la Svezia ne ha 38 diciamo, insomma, comunque l'Italia si piazza molto bene e chi sono i personaggi che sono presenti per l'Italia? sono la Maria Teresa Parpagliolo e la Elena Luzzatto con il cimitero in via Flaminia poi sono, parliamo dei nomi i bazzani per il progetto di Valle Giulia questa della cortile della Damioli House a Milano di Bergomi e Canepa non sono riuscita a individuarlo ci ho provato ma non ci sono riuscita Porcinai ha tre progetti ha una Torino, una piscina con loggia 20 miglia, un giardino roccioso poi più sotto c'è un altro Porcinaio, l'ultimo a Firenze una terrazza con prato e piscina poi abbiamo De Vico che ha il giardino di Piazza Mazzini Michele Bustirivici ha Villa Tolico e poi ha una serie di Garden and Old Ruins in Roma Garden and Old Bell Tower in Roma e vale a capire che cos'è visto che ne ha fatti tanti ma poi ne vedremo poi Mario Zocca e Luigi Lenti con l'Acropoli di Alatri Bafile Parco Pubblico a Roma non identificabile chiaramente e poi ci sono alcuni progetti di cui non è citato il protagonista ma è citato il Dipartimento Antichità e Belle Arti che lo ha promosso e sono la Via Appia le piantagioni sotto la direzione del Dipartimento Belle Arti poi ci sono alberi e piante tra vecchie rovine sotto la direzione del Dipartimento Belle Arti il numero 18 le rovine del Palatino e le piante che sono state piantate eccetera di nuovo la Via Appia quindi abbiamo tutta una serie anche di interventi di cui non è c'è Ostia Antica ovviamente il numero 4 e abbiamo tutta una serie di interventi di cui non sono citati i protagonisti ma noi li conosciamo ma che vengono inclusi sotto il diciamo il comune la comune appartenenza al Dipartimento delle Belle Arti andiamo avanti allora l'Italia nel commento che viene fatto si dice la progettazione del paesaggio in Italia non è che abbia dato chissà quanto negli ultimi anni dice il catalogo ma non ha avuto un ruolo significativo ma l'Italia ha un merito enorme proprio per quello di cui ci ha parlato Massimo De Vico aver inventato questa associazione tra piante e rovine antiche questo nuovo modo di vedere le rovine antiche associate con le piantagioni e poi perché l'Italia ha fatto le leggi del 1939 le famose leggi bottai non solo a protezione dell'arte ma anche delle bellezze naturali e questo viene considerato un titolo di merito c'è vero che poi durante il fascismo sono stati fatti interventi a verde che hanno avuto soprattutto un valore propagandistico e che nel 31 c'è stata la grande mostra che Vincenzo Cazzato ha illustrato così bene a Firenze e che poi in vista dell'esposizione universale del 42 a Roma era previsto una grande mostra sui giardini oltre a progetti tipo quello di Ostia Antica e però poi con la guerra alla battaglia del fiore si sostituisce la battaglia del grano per sfamare la popolazione con gli orti di guerra che chiaramente si diffondono in tutti i giardini poi un altro titolo di merito dell'Italia citato nel catalogo è l'aver istituito grandi parchi nazionali il Gran Paradiso, lo Stelvio, il Parco d'Abruzzo e la tutela integrale dell'isola di Capri quindi l'Italia viene valutata per questo allora dei 25 progetti ben 17 sono incentrati su Roma quindi Roma ha un ruolo fagocitante in questa presenza e gli interventi pubblici sono soprattutto archeologici sono quelli archeologici e poi ci sono dei progetti chiaramente privati e allora molto spazio viene dato allora cominciamo a vedere Giacomo Boni appunto il precursore questa è l'area archeologica centrale nel 1908 prima delle piantagioni ecco questa è l'area come appare oggi in una foto aerea come vedete la vegetazione è molto molto più presente quali sono le protagoniste facciamo una rapida carrellata perché poi i colleghi approfondiranno i personaggi la Maria Teresa Parpagliolo Elena Luzzatto con il progetto del cimitero Flaminio mi fa molto piacere questo diciamo fervore di studi sulla Parpagliolo e la Luzzatto perché soprattutto sulla Parpagliolo dopo il grande lavoro di Sonia Dumpelman che ha dato l'avvio a una riflessione su questo argomento ma anche una riflessione sempre di Sonia Dumpelman sul ruolo delle donne nell'architettura del paesaggio siano oggi proliferando vari studi su questi argomenti voglio anche citare la call che il Dipartimento Creatività e Arte Contemporanea ha avviato di recente per raccogliere 100 contributi sull'architettura sulle donne architetto del Novecento e c'è una sezione dedicata proprio agli architetti del paesaggio e quindi insomma anche questo importante che venga valutato questo ruolo delle donne quindi il cimitero Flaminio il cimitero dei caduti francesi a Montemario la cosa e poi abbiamo appunto Raffaele De Vico che è protagonista con Piazza Mazzini di cui si è già accennato lo facciamo scorrere velocemente tra l'altro a giorni dovrebbe cominciare il restauro di Piazza Mazzini questa è la maquette di questo intervento una foto aerea e un quadro di Carlo Montani che ci ha fatto vedere già in precedenza Porcinai ecco Porcinai su cui gli studi sono stati numerosi ce ne parlerà poi Franco Panzini e Tessa Matteini che dovrebbe essere in arrivo da Firenze e aveva un impegno stamani che non poteva disdire ma voglio anche ricordare in questa sede il grande lavoro che ha fatto Luigi Latini promuovendo lo studio la sistematizzazione dell'archivio Porcinai che poi ha passato adesso è nelle mani di Franco Panzini che è presidente dell'associazione Porcinai e sta continuando il grande lavoro avviato da Luigi Latini che però non possiamo non ricordare Porcinai viene citato per tre luoghi allora viene citato una loggia con piscina a Torino probabilmente la Villa Maggia pubblicata su Domus fa scomparso un giardino roccioso a 20 miglia che forse era la Villa Marchesano alla Mortola ecco la quale vediamo sempre la Villa Marchesano alla Mortola e poi un'altra villa a Torino con una piscina con un giardino probabilmente io ringrazio sia Franco che Anna Porcinai che mi hanno aiutato suggerendomi queste identificazioni probabilmente la Villa Bona Primosole nella collina di San Vito a Torino però non sono poi c'è una terrazza con giardino a Firenze forse la notizia ma i collazzi ma non lo sappiamo non abbiamo altri elementi però adesso approfondiamo nel poco tempo che rimane è una figura che è stata poco studiata solo recentemente per volontà del figlio Giancarlo Bussirivici che ha fatto un'operazione che è veramente incomiabile ha riordinato fatto fotografare scansionare tutto l'archivio del padre ha fatto pubblicare un libro con le parti più importanti che sono emerse e dopodiché ha donato tutto perfettamente organizzato e fruibile all'archivio centrale dello Stato ecco anche perché se avesse donato all'archivio centrale dello Stato tutto il materiale così penso che prima di renderlo fruibile l'archivio centrale ci avrebbe impiegato vent'anni quindi in questo modo noi abbiamo tutto l'archivio di Michele Bussirivici perfettamente scansionato fotografato inventariato fruibile presso l'archivio centrale allora Michele Bussirivici nato nel 1894 morto nel 1981 viene citato per alcuni progetti romani solamente per i progetti romani cioè il progetto della Villa Attolico e queste ville con le rovine in realtà quello che non viene citato ma perché era probabilmente finito male tutto sommato è il lavoro enorme che Michele Bussirivici ha fatto con un personaggio molto fondamentale per quell'epoca Riccardo Gualino Bussirivici con Riccardo Gualino e con la consulenza di Leonello Velturi hanno creato delle cose straordinarie Gualino era un imprenditore quello che ha creato la mia viscosa un imprenditore di grande successo di grandi disponibilità economiche però nel 31 per scontri con la politica economica del governo viene condannato a 5 anni di confino a Lipari per aver in un certo senso promosso una politica economica contraria alle leggi dello Stato e quindi nel 31 Gualino viene fatto fuori poi ritornerà sulla scena in altro modo ma in misura minore però diciamo che abbiamo all'inizio prima di questo evento abbiamo alcuni lavori che invece anche se non sono presentati a Londra mi sembra opportuno presentare allora intanto questi castelli a Sestri Levante che sono realizzati con collaborazione tra Michele Bussirivici e il fratello Clemente è un luogo scelto insieme a Leonello Venturi sono tre castelli stile medievale in un tratto di costa a strapiombo sul mare descritto da Gualino caratterizzato da vecchi pini contorti dal vento rubi rossastre eriche centenarie lecci stupendi alti ciprezzi il progetto di Michele con il fratello Clemente fino al 25 anche il padre Carlo Michele si occupa soprattutto del parco progetta questi percorsi il pergolato ecco qua lo vediamo appena realizzato il frutteto le spalliere di rose e a documenti ecco qua vediamo anche la parte del frutteto attualmente è un albergo privato inaccessibile per cui non vi posso far vedere le foto dell'oggi a meno che non andiate a ospiti si chiama l'hotel i castelli a stessa rilevante e così vi potrete godere del giardino di Michele Busirivici un giardino che univa già quella che sarà poi la caratteristica di Busirivici la parte produttiva il frutteto con la parte decorativa le rose tre castelli stile medievale dove trova posto la collezione di opere d'arte di Gualino il lavoro non era ancora finito siamo nel 28 quando a Busirivici viene sempre in collaborazione con il fratello viene commissionato un progetto grandioso la villa museo nella collina di Torino la collina di San Vito un progetto appunto interrotto poi nel 31 dall'arresto di Gualino ma un progetto grandioso ecco intanto un edificio a differenza dei castelli neomedievali di Sestri Levante Gualino ha cambiato completamente in postazione questo è un edificio modernista è stato definito da allora da Alessandra Montoni oscillante l'edificio tra una casa modernista un fortino e una postazione di comando con intorno 10 ettari di parco ecco pensate allora questo è il progetto che ci rimane perché il progetto non fu mai realizzato vi erano terre vi erano giardini e Michele scrive a vari vivaisti anche francesi per ordinare le piante che vengono mandate sono previsti questo progetto attesta la competenza di Gualino nel coniugare varie tipologie la campagna il bosco ecco ad esempio in questa vediamo se riesco a fare il puntatore no vabbè lasciamo perdere vedete la parte esterna è diabeti la parte più interna più chiara sono castagni quindi di creare veramente degli abbinamenti di diverse tipologie di giardino e di colture ecco ecco troppo avanti ecco qua è molto particolare perché intorno c'è il boschetto anche in questo caso il coniugare il selvatico con il domestico e poi se vedete al centro c'è questa struttura geometrica con queste aiuole triangolari questo è un giardino segreto realizzato ad un livello più basso della costruzione con aiuole fiorite quindi veramente una capacità di coniugare ecco qua è bellissimo perché se poi si va a guardare bene il progetto troviamo elencati tutti gli alberi tutti i cespugli tutte le fioriture che erano previste qua ad esempio queste grande macchie rotondeggianti che vedete prima del bosco sono grandi grandi macchie di rododendri azalee e camelie che davano un tocco di colore quindi pensiamo poi vi erano le serre vi erano i giardini coltivati per i fiori da raccogliere addirittura c'erano aiuole destinate ai fiori da cogliere quindi ai fiori che dovevano essere raccolti e utilizzati poi nella casa allora il progetto non viene realizzato e quindi purtroppo non sappiamo abbiamo perso l'occasione di avere un esempio su larga scala perché dieci ettari di giardino certo non erano pochi un progetto su larghissima scala che coniugava il bosco il selvatico la parte produttiva la parte decorativa la parte con le serre la parte anche di produzione di protezione e poi la casa che doveva essere una casa museo raccogliendo tutte le opere d'arte della collezione Gualino che purtroppo sono andate disperse e sono in parte alla Sabauda a Torino che ha dedicato una mostra proprio alla collezione Gualino e però in gran parte sono andate perdute era una collezione non abbiamo tempo di parlare ma era una collezione veramente strepitosa quando Gualino ritorna in auge negli anni 50 viene a vivere a Roma e viene a vivere nella casa Mattei a piazza in Piscinola e Busirivici progetta il giardino della casa che non aveva non aveva un giardino progetta anche qua vediamo le planimetrie le vedute della casa come è stata realizzata e progetta anche una villa a Montemario Villa Celeste Villa Celeste il nome era dato dalla Cesarina Gualino la moglie di Riccardo un personaggio interessantissimo anche lei una vera musa che però non viene realizzata però questo è un escurso torniamo a quelli che sono i progetti invece che Busirivici presenza a Londra quali sono questi progetti l'unico proprio chiarissimamente riconoscibile è la Villa Attolico situata vicino Porta Latina per l'ambasciatore Bernardo Attolico attualmente sede dell'ambasciata tedesca Villa Attolico è uno degli esempi più belli e più documentati del lavoro fatto da Busirivici che raccoglie in uno spazio che era decisamente più piccolo di quello che sarebbe stato il parco della Casa Museo Gualino di Torino ma le caratteristiche di Busirivici che quali sono il fatto di suddividere di creare nell'edificio una cerniera tra diverse parti del parco il parco formale di delizia di diletto e poi la parte dietro che la vediamo con questo assetto tutto bello ordinato la parte produttiva che era l'orto ma anche le aiuole per coltivare i fiori che poi addobbavano la casa e poi l'altro elemento lo vediamo subito dopo vediamo altre immagini di come si presentava la Villa Tolico questo è il frutteto questo è il frutteto della Villa Tolico che dava sul retro della casa mentre il giardino vero e proprio era sul davanti questa era la piscina inserita nel paesaggio con in fondo le mura aureliane il pergolato che è un altro topos che ricorre nelle ville di Michele Busirivici ma un altro dei progetti presentati a Londra in cui Busirivici ha avuto un ruolo molto forte è stato quello della sistemazione di Ostia Antica di Ostia Antica ci ha fatto vedere la planimetria firmata proprio da Michele Busirivici Massimo De Vico che è progettata per le 42 in funzione delle celebrazioni dell'esposizione universale del 42 ma chiaramente nel 41 interrotta allora vediamo i primi interventi che erano stati fatti ad Ostia già all'epoca precedente all'epoca prima del grande progetto delle 42 con qualche minimo cenno di assetto di sistemazione al giardino e questa è questa prima foto il progetto che viene fatto nel 39 41 è molto ma molto più ambizioso eccolo qua è un progetto che riguarda tutta l'area riguarda assolutamente tutta l'area e che come ha detto Massimo De Vico procede per le alberature nell'area più esterna e mentre andando all'interno del tessuto abitativo più fitto ci sono le piante basse ci sono le piante da fiore le piante che non coprono le visuali tra l'altro molto interessante è che Busirivici in questo progetto inserisce i cipressi in funzione delle colonne mancanti con un uso che poi è stato ripetuto sia al palatino sia a Villa Adriana cioè dell'usare l'alberatura che in sostituzione della colonna vegetale data dal cipresso abbiamo la colonna di narmo allora qua vediamo un particolare ingrandito però non so se riuscite a leggerlo con l'elenco di tutte le piante che Michele Busirivici aveva proposto di piantare riuscite a leggere? un po' beh comunque ci sono le piante tipicamente mediterrane i pini i lauri i lecci non riesco a leggere neanch'io ci sono appunto spalliere e così via ci sono veramente e soprattutto è un'esaltazione di quello che è il giardino mediterraneo le piante mediterranee in un'associazione con le rovine che è quanto mai studiata questo ce l'ha già fatto vedere Massimo prima le rose bengalensis che si arrampicano alle colonne oppure ecco qua la sistemazione il giardino detto delle tre colonne oppure ecco qua è un intervento molto bello e qua attiro un attimo la vostra attenzione perché questo è il giardino delle corporazioni vedete al centro c'è una fontana vasca polilobata è molto interessante perché Michele Busirivici trarrà questo modello per proporlo in un'abitazione privata che lui progetta un po' di anni più tardi ecco questa sarebbe avevo chiesto a Ostia se mi mandavano una foto migliore ma non me l'hanno mandata e quindi ci accontentiamo di questa sfocata della vasca polilobata ecco questi sono altri dettagli del progetto elaborato da Michele Busirivici e ognuno lui annota le piantagioni e nella sua corrispondenza ci sono c'è anche traccia di scontri con Piacentini perché Piacentini voleva pavimentare voleva meno piante e più cemento praticamente più e quindi è anche un lavoro un po' complesso comunque qua non abbiamo la possibilità di entrare nel merito però guardate qui sulla vostra sinistra questa sistemazione con queste pareti verdi che richiamano molto da vicino i teatri di Verzura a settecentecchi che ci ha fatto vedere Maria Adriana nel suo intervento e Michele Busirivici negli anni sessanta progetta un teatro di Verzura così tipico identico a quello di Marlia per il giardino del circolo del ministero degli esteri che però non viene realizzato però ecco guardate la capacità di rielaborare i modelli e di riprendere i modelli allora il progetto per la stia antica fu approvato da una commissione giudichettrice composta da Piacentini Calza che era il soppretendente e De Vico Minucci il 28 febbraio 41 la guerra era ormai scoppiata gli effetti si facevano sentire i lavori in tutta l'area interessata dal progetto procedevano a rilento non furono realizzati nuovi ingressi al nuovo museo nell'impianto di illuminazione né di irrigazione il progetto di sistemazione da verde destinata a creare quello che era stato definito il magico connubio tra la vita vegetale e le rovine fu realizzato in minima parte allora i progetti che vengono presentati a Londra parlano di edifici di giardini con antiche rovine e allora possiamo ipotizzare che fossero quelli lungo la via Appia dove Michele Bussirivici lavora moltissimo e che inquadrano appunto le mura aureliane e qua vediamo da una parte anche un campanile probabilmente San Giovanni a Porta Latina quando dicono Old Bell Tower probabilmente questa cioè l'antica torre campanaria potrebbe essere la torre di San Giovanni a Porta Latina ma non sappiamo ecco questo è uno dei progetti andiamo velocemente perché non posso fare che la moderatrice sfora anche se abbiamo cominciato l'ora le due e mezza precise ecco un'altra lottizzazione nell'area dell'Appia Antica subito fuori Porta Latina e vediamo appunto e anche qua anche se in piccolo tornano i modelli di Michele Bussirivici la partizione tra parte produttiva e parte a delizia in genere la parte a delizia davanti alla casa la parte produttiva sul retro della casa che però era ugualmente bella curata organizzata e non era assolutamente sauvage ecco questo è un progetto che mi piace particolarmente perché a parte che vediamo l'inquadramento si trova dalle parti della tomba di Cecilia Metella come possiamo vedere quindi il Castrub Caetani ma perché Bussirivici ha la sensibilità di sfruttare le caratteristiche del terreno e qua sfrutta le curve di livello del terreno l'andamento del terreno per realizzare questo che è un vero e proprio vigneto allora noi adesso stiamo recuperando questo aspetto della tradizione produttiva delle ville è appena uscito un bel volume di atti curato da Antonella Pietro Grande che fa proprio una panoramica su questo tema e Bussirivici fa proprio questo di abbinare in molti restauri a Villa d'Este viene reintrodotto il vigneto del Pizzutello a Villa della Regina Torino anche il vigneto al Palatino stanno reintroducendo il vigneto messo da Giacomo Boni e Bussirivici è un po' un precursore di questo abbinamento tra produttivi fietà e delizia con un grande rispetto del genus loci ecco guardate qui il vigneto la villa e l'inquadramento su Cecilia Metella che è ecco anche questo è un diciamo una sezione questa è un'altra delle ville da lui realizzata con lo sfondo della porta latina ed ecco l'ultimo progetto che vi faccio vedere e poi chiudiamo è la villa Gallizio all'Eterne Deciane dove come vedete realizza nel giardino una riproposizione della fontana polilobata di Ostia Antica ed è molto divertente questo fatto di riciclare il passato di riproporre il passato ecco qua vediamo un'immagine perfetta sono immagini d'epoca molto molto belle e allora che cosa porta allora non proseguo con le opere di Michele Busirivici dopo il 48 perché mi soffermo centrandolo sulla mostra di Londra del 48 anche perché poi ci vorrebbe un'altra ora perché ci sarebbero i progetti della Costa Sberalda ci sarebbero tantissimi altri progetti da citare che non abbiamo certo il tempo di citare però mi sembrava importante tra i protagonisti far capire il ruolo che aveva avuto mi fa molto piacere che sia venuto Giancarlo Busirivici anche se è arrivato che avevo già cominciato e avevo già parlato di lui ma un applauso per il lavoro che ha fatto per darci la memoria la memoria del lavoro del padre che poi è stato anche il suo che è stato di suo nonno dei suoi zii di questa famiglia straordinaria allora che cosa porta la riunione la mostra di Londra e la fondazione dell'IFLA porta che il 15 marzo del 1950 viene fondato l'IAP quella che oggi si chiama IAP allora si chiamava in modo diverso questo è l'atto notarile e questi sono i personaggi che hanno firmato Vincenzo Rivera Mario Bafile Carlo Motta la Elena Luzzatto Raffaele De Vico Giuseppe Meccoli Michele Busirivici Giovanni Battista Ceas Enrico Lenti Elvetio Ricci che era direttore del servizio giardini del comune di Roma soci onorari vengono nominati Parpagliolo e Biagio Longo Parpagliolo non era solamente il padre di Maria Teresa Parpagliolo ma era anche il direttore del dipartimento allora si chiamava pubblica istruzione non so che aveva lavorato con Bottai nell'elaborare le leggi del 1939 quindi Parpagliolo era un po' l'eminente grigia dietro queste leggi poi viene creato un ufficio di presidenza in cui viene cooptato Porcinai che come vedete non figura nell'atto fondativo quindi Porcinai non fa parte della fondazione però poi viene cooptato nel consiglio direttivo ecco la strada aperta a Londra aveva avuto così uno sviluppo a livello territoriale e aveva posto le basi per affermare l'importanza del ruolo dell'architetto paesaggista dando anche spazio alle donne e adesso passiamo appunto alle grandi donne protagoniste di Londra grazie allora cominciamo con Cristina Imbroglini che appunto ci parla di Maria Teresa Parpagliolo il giardino tra arte e scienza Cristina è architetto storica dell'architettura professore all'università alla sapienza di architettura del paesaggio e devo dire appunto che mi fa veramente molto piacere che finalmente si cominci a studiare questa figura della Parpagliolo e della Luzzatto e spero prossimamente anche di altre due donne scusate faccio un altro piccolo intervento che sono state altrettanto importanti la generazione dopo ovviamente in questo settore e che sono Annalisa Calcagno Maniglio che ci ha lasciato da poco tempo che però mi fa piacere ricordare il ruolo che ha avuto affondato nel 1980 a Genova la prima scuola la prima scuola di specializzazione in architettura del paesaggio e Vittoria Calzolari di cui ricorre quest'anno il centenario della nascita e che invito tutti il 5 ottobre viene organizzato un convegno sull'Apia Antica proprio per ricordarla sarà il primo credo di una serie di manifestazioni il ricordo di Vittoria Calzolari che è stata anche lei una pioniera del paesaggismo bene allora la parola a Cristina Imbroglini che ci dà un affresco del ruolo della Parpagliolo che cosa ha fatto questa donna straordinaria grazie vi ringrazio di questo invito è un'occasione per parlare di una progettista di Parchi e Giardini che è molto conosciuta all'estero ma ahimè non così conosciuta in Italia non così studiata nonostante abbia avuto un ruolo molto significativo nell'affermazione dell'architettura e del paesaggio come disciplina moderna autonoma diversa dall'orticoltura dal giardinaggio ma anche dall'architettura e dall'urbanistica con un proprio specifico campo di azione e anche delle specifiche competenze ed è per questo che diciamo tra le tante attività della Parpagliolo ci fu sicuramente una battaglia costante per l'istituzione di una scuola del paesaggio che formasse dei progettisti in grado di dare risposta a nuove esigenze ambientali e sociali interpretare stili di vita moderni e al tempo stesso però contribuire alla tutela del patrimonio naturale paesaggistico ereditato dal passato allo sviluppo diciamo di un pensiero molto originale moderno internazionale aperto al dialogo interdisciplinare contribui sicuramente un percorso atipico Maria Teresa Parpagliolo si iscrive ad archeologia e si avvicina all'architettura del paesaggio da autodidatta lavorando allo studio di Percy Stephen Kane a Londra negli anni 30 studiando la storia del giardino italiano e collaborando con la rivista Domus di Gio Ponti attraverso una rubrica che nasce come rubrica sull'orto il giardino ma si trasforma ben presto in uno spazio di più ampio respiro attraverso il quale per 6-7 anni Parpagliolo contribuì a orientare il gusto e le percezioni estetiche degli italiani in materia del progetto degli spazi aperti così come Ponti Buzzi Persico Piccinato facevano invece per il design l'arredamento il progetto della città e della casa ha realizzato più di 40 progetti e scritto più di 140 testi quindi anche un'attività molto prolifica attraverso la quale rilesse la tradizione del giardino italiano attraverso una lente molto diversa da quella diciamo della riproposizione acritica strumentale retorica che in qualche modo era propria della cultura fascista dominante nell'epoca della sua formazione e funzionarono in qualche modo da antidoti tre elementi che sono ben evidenti di questo diciamo prospetto il primo l'influenza sicuramente del padre Luigi Parpagliolo che fu appunto uno dei più attivi promotori delle leggi per la tutela del paesaggio e dell'ambiente attraverso il quale Maria Teresa sviluppò una concezione del patrimonio che comprendeva le bellezze naturali le ville i parchi i giardini i boschi e un secondo aspetto molto importante è quello dell'amore per la natura che era fatto per Parpagliolo di una di un'esperienza diretta immersiva empatica nell'ambiente naturale innanzitutto come guida scout che attività che fece clandestinamente ovviamente negli anni del fascismo e poi diciamo attraverso progetti che seguiva dalla fase di ideazione a quella di realizzazione e manutenzione quindi con una grande capacità tecnica di stare accanto alle cose e questo le permise anche di sviluppare diciamo un senso critico nei confronti del rapporto uomo-ambiente proprio un senso di responsabilità e aveva un'interpretazione di questo rapporto anche in chiave evolutiva come si vede da un libro del 46 di conoscere le piante che non è un manuale diciamo di riconoscimento della vegetazione ma direi un testo pioniere dell'ambientalismo in Italia un terzo elemento che si vede anche da questa biografia funzionò sicuramente come antidoto fu quello dei contatti internazionali parlava quattro lingue e quindi ebbe modo di era molto intraprendente di lavorare all'estero di partecipare a molti dei congressi internazionali sul paesaggio e di sviluppare attraverso questo una riflessione critica sul rapporto con il passato sulla rielaborazione delle tradizioni storiche e le nuove istanze anche internazionali di modernità Parpagliolo era convinta che l'opera che spettava gli archivetti del paesaggio fosse un'opera molto grande era salvaguardata ricercata all'estero ma ancora quasi estranea a molti in Italia così diceva e riguardava proprio il rapporto uomo-natura tanto nelle città dove si iniziavano a palesare problemi di inquinamento congestione traffico ritmi frenetici così li chiamava tanto negli ambienti naturali dove era necessario garantire un equilibrio con le esigenze di trasformazione infrastrutturale turistica e di sfruttamento delle risorse primarie prima tra tutti quella del patrimonio forestale per far dialogare tradizione modernità tutela e innovazione Parpagliolo elaborò una specifica modalità di lettura del giardino storico basata sul funzionamento più che sulla forma sulla interpretazione piuttosto che l'imitazione e sulla tipicità piuttosto che l'identità nei progetti di Parpagliolo come si vede in questi pubblicati su Domus l'impianto planimetrico era spesso un impianto geometrico regolare che garantiva una razionale disposizione degli spazi così come era stato nella tradizione del giardino italiano però gli impianti vegetazionali erano invece caratterizzati dall'essere ispirati a funzionamenti e dinamismi naturali introducevano in particolare nella terza dimensione configurazioni libere forme spontanee che contrastavano gli elementi dell'architettura ma soprattutto lasciavano le piante generalmente specie rustiche autonome e autoctone scusatemi libere di svilupparsi secondo una sensibilità veramente ecologica molto vicina alla sensibilità contemporanea questo è ad esempio molto evidente nel parco costiero di Mablethorpe che Parpagliolo realizzò con Silvia Crow nel dopoguerra era un ambiente costiero devastato dall'essere stato utilizzato per realizzare fortificazioni belliche durante la seconda guerra mondiale poi da un alluvione nel 1953 e quello che misero in campo fu un vero e proprio progetto di ripristino ambientale la ricostruzione di ambienti di dune sabbiose di paludi di stagni salmastri attraverso delle configurazioni che erano ispirate a quelle naturali modellate direttamente dall'azione delle maree quindi con specie sommerse ed emerse nelle varie stagioni nei vari periodi addirittura della giornata modellate dal vento capaci di assecondare dinamismi idraulici e biologici all'interno di questo sistema vennero comunque allocate tutte quelle che erano le attrezzature proprie di uno sviluppo turistico moderno e quindi attrezzature per bambini aree campi giochi labirinti caffè all'aperti campi da pattinaggio queste forme no scusate è andato troppo avanti queste forme sinusoidali in qualche modo garantivano proprio uno sviluppo della vegetazione anche capace di resistere agli agenti atmosferici che avevano fino allora devastato questo territorio e sono tra l'altro tuttora utilizzate dal servizio inglese che si occupa di protezione costiera anche in un altro progetto molti anni più tardi siamo negli anni settanta che è quello per Casal Palocco Parpaiolo interpreta nettamente il tema dell'innovazione che la società generale immobiliare sta mettendo in campo c'è un progetto integrato che diciamo segue la realizzazione dalla fase di ideazione fino a quella di vendita di manutenzione degli spazi occupandosi di spazi pubblici privati infrastrutture realizzando quello che viene definito diciamo una sorta di città modello quasi un progetto di vita e all'interno di questo spazio di questo grande parco spazi pubblici strade parco fasce verdi di connessione ecologica giardini collettivi condominiali concepiti come dei piccoli boschi giardini privati che erano delle piccole osi di biodiversità e permettevano diciamo di coniugare questa grande innovazione dal punto di vista insediativo con quello che era invece l'esigenza di tutelare l'ambiente della pineta costiera quindi una scelta di specie autoctone capace anche di sopravvivere al di sotto diciamo dei pini cosa non facilissima il ritorno all'antico che Maria Teresa Parpagliolo queste sono sue parole riteneva fondamentale per poter avviare una riflessione sul giardino moderno non era visto come un pedestre ripristino di vecchi motivi ma invece come una fonte di nuove energie gli elementi del giardino classico diventavano quindi elementi da reinterpretare non da imitare adattandoli ai nuovi contesti ambientali e culturali alle nuove esigenze di vita all'aperto un caso particolare è quello ad esempio degli elementi costituiti da terrazze e scale che trovano una loro applicazione all'interno di questo giardino residenziale condominiale a Vigna Clara a Roma dove diciamo questo motivo diciamo della scalinata monumentale delle terrazze che veniva generalmente utilizzato in grandi spazi viene utilizzato invece in uno spazio molto ristretto 50 metri di larghezza 40 metri di slivello in cui diciamo c'è una grande densità edilizia Antonio Cederna che era sempre molto critico nei confronti degli interventi della società generale immobiliare lo definiva uno slam per ricconi cioè un luogo in cui diciamo la piscina sembrava una sputacchiera così lo dice non c'era una vera area di gioco per i bambini però Parpagliolo diciamo accetta questa sfida e realizza invece un sistema molto complesso di terrazze una sequenza di spazi diciamo a diversi livelli incastrati come un puzzle la sonometria diciamo è legata al fatto proprio di comprendere questo strano diciamo incastro di elementi non è soltanto una questione di risolvere il pendio ma anche di moltiplicare gli spazi a disposizione per la vita all'aperto quindi terrazze grotte che rileggono questo tema anche delle grotte classiche ricavate diciamo all'interno dei muri di sostruzione e poi ovviamente l'importanza della vista sul paesaggio circostante che moltiplica ulteriormente questo spazio connettendolo come abbiamo visto in molti casi al contesto nel 1937 all'interno di una campagna sempre della rivista Domus Parpagliaro dedica tantissimi articoli alle specie tipiche della flora italiana pioppi cipressi pini e questo non diciamo con un'idea appunto di tutela dell'identità del paesaggio italiano quanto per sottolineare come ciascuna di queste specie e le chiama sempre specie ma essenze quindi con una grande sensibilità ecologica diciamo come ognuna di queste specie fosse adatta ad un contesto diverso a quei particolari caratteri ambientali utilizza quasi sempre infatti in particolar modo a Roma specie della macchia mediterranea e questo è un esempio diciamo abbastanza evidente nel parco dell'hotel Cavaliere Hilton a Montemario dove viene diciamo realizzato un sistema di colline artificiali caratterizzate dalla presenza della macchia il bosco viene piantato quasi subito anche per garantire l'ottimale inserimento di questo palazzo molto grande anche molto contestato e sono però anche l'occasione per realizzare piccole radure aree di sosta scalette sentieri secondari l'obiettivo era quello di realizzare degli spazi semiprivati riservati a piccoli gruppi di ospiti quindi nonostante diciamo l'imponenza e la magniloguenza di questo complesso il progetto diciamo del parco riesce a realizzare un luogo confortevole accogliente immerso nella natura e questo è particolarmente evidente da queste foto sembra quasi un ambiente completamente a contrasto con quello dell'hotel un altro elemento che è caro a Maria Teresa Parpagliolo è definire quali siano le doti diciamo oggi diremmo le competenze specifiche di un architetto del paesaggio e l'individuo innanzitutto in tre elementi la prima la capacità di utilizzare gli elementi naturali come elementi di progetto cioè per progettare uno spazio coerente con le esigenze di natura funzionale confortevole il secondo elemento è quello dell'osservazione e l'interpretazione progettuale del contesto inteso sempre come opportunità mai come limite e poi l'integrazione tra competenze tecniche e sensibilità estetica tra scienza ed arte la conoscenza della natura costituiva il parpagliolo appunto un elemento essenziale non solo vegetazione questo è un bellissimo diciamo una bellissima scheda tratta dal soribbo conoscere le piante ma anche acqua suolo clima esposizione questi erano gli elementi materiali di base diceva come i mattoni per un architetto normale diciamo così questi sono i nostri materiali da costruzione e tutto questo però tenendo insieme quelle che erano esigenze ecologiche ed anche percezioni estetiche in un dialogo costante questa sensibilità ecologica è particolarmente evidente nel giardino nel patio della RAI di Viale Mazzini era uno spazio difficilissimo perché si tratta del tetto del garage del parcheggio interrato circondato in cui emergevano i pozzi di ventilazione circondato da 12 piani di acciaio e vetro riflettente per il progetto di Berarducci ridotto dalla presenza di una vasca che era la vasca d'accumulo dell'acqua degli impianti di condizionamento scusate tanto che Parpaglioli in un primo momento suggerì di non realizzare il giardino lasciarlo pavimentato poi sotto l'insistenza di Berarducci e della committanza decide di imbarcarsi in questa impresa e inizia con il suo solito modo cioè cominciò a studiare i problemi di clima di terreni di esposizione di posizione e realizza un sistema di diversi raggruppamenti vegetazionali sono vere e proprie associazioni lei è una delle prime che parla di associazioni dei criteri con cui le piante possono stare insieme anche attraverso rapporti di competizione di scambio di simbiosi e quindi di fitosociologia oggi diremmo e questi impianti rispondevano anche all'esigenza di testare diverse possibilità per Parpagliolo questo progetto non era un progetto che poteva essere concluso ma che doveva servire come test che doveva essere studiato per capire cosa sarebbe sopravvissuto e cosa no al tempo stesso ha presente anche diciamo quelli che sono i caratteri estetici di questo luogo molto rappresentativo visto dall'ingresso della RAI e da tutti gli spazi di rappresentanza che girano intorno e quindi realizza questa simmetria chiastica tra elementi caratterizzati dalla stessa associazione vegetazionale ma più grandi e più piccoli con differenti dimensioni per dare proprio dinamismo per permettere all'osservatore di passare da una visione di insieme a quella dei particolari e in questo il giardino moderno il tema del giardino moderno quindi di un giardino dinamico si coniuga al fascio diciamo dei giardini orientali che aveva avuto modo di osservare nel convegno IFLA del 64 a Tokyo e che poi però hanno in qualche modo preso il sopravvento nelle successive reinterpretazioni e restauri di questo giardino oggi se andate vedete un giardino tutto giapponese un altro elemento importante per la Parpagliola è appunto la lettura del contesto quindi un progetto che nascesse da quegli elementi che la natura sapeva dare in quell'uzzito a chi sapeva leggerli interpretarli quindi l'importanza anche di osservare e descrivere questa interpretazione dei caratteri morfologici ambientali è uno degli elementi poi diciamo di questo progetto parlerà sicuramente di più Monica Principe ma diciamo caratterizza questo progetto per il cimitero militare francese di Montemario che è uno di quelli appunto portati al convegno di Londra del 48 qui la cosa interessante è che Parpagliola e Luzzatto vincono questo concorso adattando diciamo alla morfologia della collina di Montemario e quindi a un ambiente molto scosceso un modello isotropo che veniva generalmente utilizzato per i cimiteri militari in particolare per quelli francesi in luoghi di pianura come era stato a Venafro a Miano e questo permette di realizzare un parco molto diverso in cui il sistema dei viali segue le linee di drenaggio in cui il sistema degli impianti ripropone degli elementi caratteristici delle colline romane tra cui gli oliveti i frutteti un'altra cosa interessante è il valore simbolico delle alberature in questo progetto le le sepolture sono allocate lungo i versanti c'è una prevalenza di vegetazione mediterranea per integrarsi con il contesto di Montemario ma con una predilezione per le specie mediterranee del nord Africa là dove ci sono le tombe musulmane dei caduti nord africani e invece una prevalenza di specie continentali là dove ci sono i caduti di religione cattolica prevalentemente francesi un altro elemento importante per la formazione di un paesaggista l'ultimo diciamo di cui vi parlerò era per Parpagliolo quello di mettere in relazione conoscenza scientifica e sensibilità estetica funzionalità e bellezza e porre l'accento su questo aspetto artistico significava affermare l'importanza di una preparazione di una formazione di una sensibilità culturale specifica che erano capaci di ricomporre quella dicotomia tra gli aspetti tecnico-scientifici propri dell'orticultura che fino allora era stata diciamo la scuola da cui prevalentemente uscivano i paesaggisti in particolar modo le paesaggiste e gli aspetti estetici propri dell'architettura questo dialogo tra arte e scienza è particolarmente evidente in un progetto effimero diciamo così che è quello per il Festival of Britain del 1951 in particolare il progetto del giardino del regatta restaurant dove il riferimento alla scienza è anche simbolico iconico la cristallografia la struttura molecolare dell'insulina e di altri elementi diciamo che nascevano da questa osservazione microscopica che era un elemento di innovazione della mostra vengono utilizzati per realizzare pattern decorativi nella tappezzeria nelle carte da parati insomma tutta una serie di elementi del giardino del parco scusatemi del festival e vengono utilizzati anche da parpagliolo per realizzare questo giardino che si trova all'interno diciamo di un cortile anche questo in parte vetrato anche quindi molto difficile da realizzare per due motivi il primo il fatto che fosse effimero che dovesse essere realizzato in pochissimo tempo e per fortuna per certi aspetti durare anche poco vista diciamo la precarietà delle condizioni e quindi questa struttura diciamo amebica viene utilizzata per organizzare associazioni vegetazionali differenti in base alle condizioni di esposizione di umidità che erano appunto particolarmente avverse in questo spazio è una configurazione che ricorda anche giardini coeviti di Burle Marx ed esattamente come per quei giardini dimensione estetica e funzionalità ecologica si compenetrano è diciamo una scelta che nasce per ottimizzare le esposizioni e studiare appunto diverse associazioni vegetazionali questo giardino vi faccio vedere le ultime foto così come moltissimi giardini di Parpaiolo questo in particolare effimero ma in realtà molti altri giardini sono stati cancellati distrutti nella maggior parte dei casi purtroppo profondamente alterati questo è il motivo per cui ho portato anche molti ridisegni di questi giardini oltre diciamo a fonti originali e poche foto di come sono attualmente perché oggettivamente le trasformazioni sono state radicali questo per ridurre con una forma quasi sempre di semplificazione per ridurre gli oneri di manutenzione per permettere di sistemare diciamo i prati attraverso mezzi meccanici non manuali e tutto questo ve lo dico soltanto perché alimenta un tema che oggi è stato sollevato più volte che è quello del restauro dei giardini ma in questo caso anche del restauro dei giardini del moderno e credo che sia necessaria appunto una riflessione capace di tenere conto delle attuali condizioni proprietarie economiche climatiche ambientali di pressione anche da parte di pressione antropica anche connessa al traffico come nel caso ad esempio di Casal Palocco ma come succede anche in altri giardini e parchi progettati a Parpagliolo e di molti altri e penso appunto che questa possa essere l'occasione questa giornata di oggi per iniziare a discuterne di più diciamo così anche con riferimento ai giardini moderni grazie dell'attenzione grazie grazie Cristina sembra che abbiamo messo a fuoco veramente un ruolo innovativo di questa donna che si è cimentata sotto questi aspetti che vanno con una coscienza molto molto contemporanea anche dell'utilità ecologica della funzionalità e non solo dell'estetica quindi questa capacità di coniugare la bellezza la scienza la funzionalità l'utilità mi sembra veramente un ritratto a tutto tondo molto molto interessante io credo che sulla Parpagliolo ci sia ancora tanto da dire tanto da studiare e tanto da approfondire quindi auguro a Cristina di continuare a lavorare su questo tema non solo tutti i suoi scritti su Domus tutto quello pubblicato sono una tale marea per esaminarli tutti e tirarne fuori tutte le caratteristiche che però è un lavoro che vale la pena fare passiamo all'altra persona la Elena Luzzatto la prima donna laureata in architettura in Italia sodale della Parpagliolo il progetto del cimitero francese a Montemario è stato fatto in comune e anche lei e tra l'altro l'Elena Luzzatto non aveva alle spalle un padre come Luigi Parpagliolo che le aveva anche trasbesso sensibilità e cioè la Luzzatto no quindi viene e si fa da sola è una donna che si è fatta da sola quindi è una caratteristica importante e allora la nostra Monica Principe è architetto storico dell'architettura con tanti progetti collaborazioni con diverse università con diverse strutture e varie ha già pubblicato parecchie cose sulla Luzzatto e ha in programma un libro direi sì questo sarebbe l'auspicio assolutamente e quindi aspettiamo di leggerlo ma intanto ci godiamo questo anticipo prego Monica grazie grazie a tutti grazie soprattutto Alberta insomma dell'invito è davvero un piacere per me insomma un onore presentare questa ricerca che sebbene sia iniziata nel 2016 quando ho avvicinandomi insomma a questo personaggio ho trovato dei documenti inediti perché siamo riusciti a recuperare il nipote e quindi quello che vedrete oggi è in gran parte un archivio che è stato oggetto insomma di vincolo dalla soprintendenza ma non non è ancora consultabile quindi insomma sono documenti importanti allora Elena Luzzatto diciamo partiamo dalla fine nel senso che la sua fortuna inizia e finisce nel 1983 fortuna critica chiaramente quando l'ordine degli architetti di Roma fa questa pubblicazione 50 anni di professione e organizza una mostra dedicata ai primi scritti dell'ordine degli architetti di Roma dove vicino appunto a tutti i nomi che abbiamo già visto citati c'è anche Elena Luzzatto come unica donna questo testo poi dopo sarà la base di tutta una serie di citazioni che verranno riproposte poi negli anni 90 nei primi anni 2000 su studi diciamo di genere da questo punto di vista e allora questa ricerca si inserisce anche all'interno di una ricerca più vasta che dell'Università Sapienza di Roma diretta da Claudia Mattogno che si chiama Tecniche Sapienti in cui siamo andati a recuperare i nomi delle prime laureate in architettura della Facoltà di Roma di Architettura e Ingegneria e qui ecco questo è un piccolo grafico che fa vedere queste mosche bianche queste donne che si avvicinano all'architettura sono quei pallini quindi due uno uno e compaiono ogni tanto c'è anche un problema legato al nome il nome perché in realtà ci siamo resi conto insomma facendo queste ricerche uno dei problemi è quello appunto del cognome perché il cognome di queste donne cambia durante la vita spesso prendono il cognome del marito quindi abbiamo Elena Luzzatto figlia di Vittorio Luzzatto che è un ebreo nel 39 poi con le leggi razziali decide di cambiare cognome e diventare Elena Valentini la troviamo quindi citata come Elena Valentini Elena Luzzatto Valentini ma anche Elena Luzzatto Romoli perché nel 36 si sposa con l'ingegner Felice Romoli che tra l'altro è stato anche un collaboratore di Piccinato negli anni 20 con cui insomma fanno diversi progetti e quindi insomma c'è anche questa la ricerca sulle donne e anche questa ricerca sulla ricomposizione dell'identità vera e propria non è certamente la prima nel senso che è la prima laureata alla facoltà di architettura la facoltà di architettura di Roma sappiamo essere la prima fondata in Italia ma in realtà c'erano già delle progettiste che venivano ad esempio dal corso di architettura della facoltà di belle arti della scuola di belle arti una su tutte vi cito Attilia Travaglio Vaglieri Attilia Vaglieri sposata all'ingegnere Umberto Travaglio che realizzano tutta una serie di un altro personaggio che andrebbe assolutamente approfondito vi metto solo questo progetto che è il concorso per l'auditorium al Circo Massimo del 1934 un progetto che non andrà poi avanti ma che come vedete insomma c'è l'immagine di questo edificio monumentale insomma in realtà non è altro che la testa di una sistemazione a monte molto più complessa dove l'elemento verde è invece parte integrante del progetto ed è una parte importante dove c'è appunto sia l'auditorium interno ma c'è anche la cave esterna insomma ribaltata dove si vede questo accenno di studio dell'elemento verde e invece tornando a Elena Luzzatto vediamo come in realtà il tema del paesaggio dove lo ritroviamo in realtà lo ritroviamo all'attere di tutta una serie di anche esercitazioni come per esempio la cappella per un cimitero in un paese di campagna quindi il tema del cimitero diventa anche un modo per avvicinar un tema universitario diventa un modo per avvicinarsi nel 1927 vince il primo premio ex equo per una stella funeraria al verano che definirei come dire algida se non assolutamente come dire essenziale dall'altra ci sono per esempio questo è un altro progetto universitario che è l'ingresso di villa ricca con abitazione per il portiere dove però si vede un certo interesse per quella che è l'integrazione fra l'elemento verde e l'elemento invece architettonico messo a fianco di una delle prime realizzazioni che sono riuscita a trovare i disegni solo qualche mese fa di Villa Albano Villa Albano perché era la famiglia dei cugini che appunto finanziano questa prima opera dove si vede appunto questa attenzione verso le aperture le viste i terrazzamenti c'è sicuramente una relazione di queste architetture con il paesaggio circostante dall'altra parte ecco non si avvicina al paesaggio o non fa studi specifici sull'architettura del paesaggio viene da architettura ma io credo insomma di poter affermare che in tutta questa prima fase soprattutto degli anni 20 e 30 c'è una forte relazione di queste architetture cerca di proiettarsi all'esterno appunto con terrazze viste visuali fanno parte integrante del progetto e anzi cerca di sfruttarle ad esempio questo tra l'altro interessante il 1927 il villino in via Vincenzo Troia e poi a fianco il 1928 il villino per Giuseppe Bottai siamo negli stessi anni ma da una parte abbiamo un linguaggio molto più vicino a quello che è il sistema classico che lei impara insomma la scuola e dall'altro invece degli elementi più modernisti così come l'altro è un progetto sempre per Ostia Lido dove c'è una proiezione dell'architettura all'esterno ma l'altro filone è anche quello per esempio dell'architettura sanitaria il marito l'ingegner Felice Romoli è un progettista di ospedali e con lui progetta una serie di ospedali che poi non verranno realizzati però insomma prendono il secondo terzo premio appunto a Viterbo a Bolzano ma anche altri dove si vede comunque la necessità di relazionare le esposizioni la luce appunto e il clima quello che diceva prima poi dopo anche la la imbroglini e ecco questo è un breve riassunto di quelle che sono le posizioni quindi passa all'interno del comune di Roma nel 1926 viene assunta dal comune di Roma con diverse posizioni e passa dai mercati ufficio nonare architettura piani particolareggiati ecco questa è una prima ricostruzione della tipologia delle insomma delle attività che degli edifici che vengono realizzati da Elena Luzzatto sono abbastanza variegati impressionanti questo è un elenco che deriva da un curriculum che ho ritrovato del 1951 quindi è un curriculum che non è completo ma già si vedono insomma una serie di insomma di interessi anche dal punto di vista proprio dell'urbanistica molti di questi ancora non sono non abbiamo ritrovato non ho ritrovato gli elementi ma insomma ci sono ci stiamo lavorando sicuramente una tipologia quella per cui è più nota è quella dei mercati questo qui è per esempio il mercato mercato noventano proprio qui vicino in realtà all'epoca insomma piazza principe di Napoli in cui si vede anche qui la relazione fra lo spazio interno e lo spazio esterno in realtà la via principale da questa immagine dell'epoca si vede in realtà è una grande riflessione sui mercati di Traiano che all'epoca appunto nella fine degli anni venti si stavano scavando ma dall'altra è anche una riflessione sul ruolo urbano di questi luoghi per cui la via esterna entra senza soluzione di continuità all'interno oggi ci sono delle grandi cancellate e quindi arriviamo però ai due veri progetti di paesaggio che sono sicuramente quelli che vengono realizzati in collaborazione con Maria Teresa Parpagliolo quindi questo sodalizio interessante e proficuo assolutamente inizia nel 1944 in cui ecco il comune di Roma indice un concorso per la realizzazione di un cimitero militare dove si trova si trova a Montemario appunto l'ha detto prima e dove entrava tra l'altro un tempo vicino dove entrava la via Francigena a Roma quindi c'è questa relazione con questa eco francese dall'altra dobbiamo riflettere sul fatto che questo progetto è un progetto coevo di altre sistemazioni funerarie importanti appunto il monumento alle fosse ardeatine dall'altro appunto il monumento ai caduti dei campi di concentramento in Germania talmente importante è questa riflessione del 1944 che Tafuri sceglierà di far iniziare la sua storia dell'architettura non nel 1945 ma proprio nel 1944 anno in cui si sviluppano questi concorsi sui cimiteri sugli elementi funerari insomma sui monumenti funerari che sono davvero il primo momento di riflessione di ricomposizione dell'identità nazionale e della storia qui vediamo un progetto che è assolutamente diverso rispetto a questi due esempi che abbiamo già portato un po' di numeri per farvi capire insomma le vittime straniere di guerra quindi lo stato italiano velocemente nel giro di pochi mesi si organizza per dare più di 50 aree agli stati che sono in capo quindi la Francia in questo caso è in capo della realizzazione del cimitero di Roma ecco il progetto vincitore qual era la richiesta la richiesta in realtà nel bando di concorso insomma si parla di equilibrio e parsimonia quindi insomma già si capisce che non c'era tanto spazio per grandi voli pindarici dal punto di vista economico soprattutto ma doveva anche essere un progetto austero da una parte quindi era richiesto un asse celebrativo e dall'altra era richiesto invece che le singole lapidi non avessero distinzione l'una e dalle altre non avessero nulla a distinguere i vari soldati l'unica cosa che distingue i soldati è appunto la fede religiosa da una parte la croce e dall'altra la mezzaluna islamica per quanto riguarda la parte appunto ecco questo divertente siamo riusciti sono riuscita a ritrovare un altro progetto di questo concorso che è quello di Saverio Muratori all'archivio Muratori c'è questo progetto in cui si vede secondo me dal confronto fra le due soluzioni la differenza e anche quella che era la volontà insomma della giuria di premiare l'uno o l'altro questo è solo uno schizzo ovviamente non sappiamo se è la versione definitiva che poi Muratori presenta però si vede diciamo una forte componente monumentale non c'è nessun accenno nessuno studio su quelli che sono gli aspetti invece vegetali naturalistici e c'è una forte insomma imposizione del dato architettonico infatti lui in quel momento stava appunto scrivendo storia e critica dell'architettura contemporanea e c'è anche una riflessione che lui stava portando avanti sugli architetti nordici ecco questa appunto rivediamo le due questa è invece la soluzione finale questa in particolare è una delle due piante che vengono che sono oggi appunto nell'archivio di Elena Luzzatto e si vede perfettamente sotto c'è una lunga leggenda che sono tutte le essenze utilizzate indicate punto per punto il progetto realizzato è un progetto in realtà molto più semplificato rispetto a questo e per questo io presenterò diciamo questa versione la versione del concorso cos'è? è un progetto assolutamente celebrativo della intanto delle due religioni perché c'è questo grande asse centrale e poi due parti una parte la parte nord insomma nord la parte sopra è quella della cappella musulmana mentre la parte sotto rispetto al viale dei cipressi che è la zona centrale quella della cappella cristiana ma dove si conoscono queste due donne cioè come arrivano insomma a lavorare insieme in realtà sono due donne che lavorano a Roma entrambe hanno rapporti con il comune di Roma e fanno progetti per il comune di Roma e dall'altra diciamo vorremmo anche ritrovare quest'altra connessione cioè Eva Mameli Calvino Eva Mameli Calvino è in realtà una botanica nonché la madre del ben più famoso Italo e fonda nel 1931 questa società Amici dei Fiori e fondano questa rivista che si chiama Il Giardino Fiorito di cui fa parte insomma questa società da una parte è la Parpagliolo e la Luzzatto vince questo secondo posto per il concorso di una stazione fiorita io qui vi ho messo un esempio di una di queste stazioni fiorite però ecco si vede già un certo interesse per il tema dall'altro ecco anche questa un interessante parallelo da una parte un progetto che non sappiamo esattamente di che anno è però è precedente al 1935 anno in cui viene pubblicato che sono appunto una villa a Capri e dall'altra c'è invece i Giardini di Capri questo bellissimo articolo di Maria Teresa Parpagliolo che parla appunto di un'architettura dove ogni decorazione è abolita questa è la villa di Edwin Serio che appunto è stato uno dei grandi protagonisti anche del dibattito sul paesaggio e l'architettura ecco ma dall'altra parte c'è anche una riflessione sulla Mediterraneità sul significato già accennato appunto da Cristina Embrogliene ed altri questo ad esempio è un progetto per una villa rustica pubblicato su Domus nel 1932 in cui si riflette sul discorso dei terrazzamenti dei vari livelli dell'essenza e del viale principale di Cipressi e dall'altra il tema della ruralità lei è anche allieva la Luzzatto è anche allieva di Vincenzo Fasolo ed è assistente di Vincenzo Fasolo per diversi anni in cui progetta questo centro ad esempio questo centro colonico in Somalia primo premio exequo con Ignazio Guidi ecco c'è questa frase costruire che appunto è tratta da questo articolo della Parpagliolo perché purtroppo l'ha Luzzatto e non ci ha lasciato nessuna parola e questa è anche l'altra difficoltà di questa ricerca per cui tutto quello che voi vedete appunto di cui io vi sto parlando è tratto chiaramente dalle tavole ma non ci sono testi scritti che ci aiutano a capire l'approccio allora scrive la Parpagliolo costruire secondo la tradizione non è copiare per quello che già esiste la tradizione può essere un ostacolo contro il quale inciampa chi va alla cieca ma per chi alza il piede diventa gradino questo si capisce che in realtà il progetto entrambe le progettiste si ritrovano all'interno della tradizione della storia non hanno nessuna intenzione di negarla e entriamo in questo cimitero si entra dalla cavea la cavea in realtà gestisce anche il dislivello serve anche a superare il dislivello è la zona d'onore il ritrovo è la parte diciamo più rappresentativa sicuramente delle adunate da qui si arriva poi nel viale centrale appunto il viale dei cipressi di cui parlavo prima e l'altra cosa di cui dobbiamo sempre tener conto è il discorso della topografia del luogo cioè in realtà questi percorsi sono tutti a livelli esattamente diversi come prima diceva Cristina Imbroglini c'è uno sfruttamento incredibile di quello che è la topografia naturale quindi si seguono le linee del monte invece che andargli contro chiaramente ecco il viale dei cipressi poi finisce con questa nel progetto originale finisce con questa esedra verde con questi sei cipressi ma a fine tutto sommato definirei non troppo monumentale una piccola esedra perché in realtà porta da una parte sulla destra si gira e si deve entrare all'interno della cappella musulmana che vediamo nel progetto originale essere non solo il punto dove oggi c'è questa piccola fontana quindi questa è la foto in alto che vedete è quello che c'è oggi ma dall'altro il progetto originale era proprio una vera e propria cappella musulmana che non è stata realizzata perché la chiesa si è opposta non voleva non voleva assolutamente che ci fossero delle moschee a Roma all'epoca e quindi non per mancanza di fondi c'è questa linea d'acqua che porta qui c'è il tema del palazzo del general l'ifra la spagna il moresco qualsiasi tutti questi elementi sicuramente e una serie di elementi verdi che palme che richiamano appunto la vegetazione anche moresca insomma islamica e dall'altra invece diciamo arrivati appunto alla fine del via dei cipressi dall'altra invece si gira a sinistra sulla parte cristiana dove abbiamo invece le stazioni della via crucis che non sono altro che questo tempio verde appunto con i cipressi senza tetto ma è chiaramente insomma le dodici le dodici stazioni della via crucis e poi il cortile della cappella cattolica ecco questa è la stessa pianta di prima però senza le essenze proprio per far capire da una parte la disposizione delle lapidi e dall'altra invece quella della vegetazione quanto fosse importante nel discorso e ecco queste le due le due piante che facevo vedere e c'è anche torno un secondo indietro in realtà c'è anche un secondo percorso perché il percorso principale appunto è quello del viale dei cipressi ma in realtà c'è anche un percorso circolare noi entriamo e si può girare a destra e si può fare tutto un percorso circolare e questo percorso circolare è anche interessante perché in realtà fa vedere il cimitero da tutto un altro punto di vista da dove lo capiamo dal fatto che quei due pallini che vedete in alto sono appunto due colonne che segnano l'anfiteatro verde cioè le due progettiste lo chiamano proprio l'anfiteatro verde per cui da una parte abbiamo la cavea costruita monumentale dall'altra abbiamo un'altra cavea che però è una cavea verde che si apre verso le colline e appunto lo rivediamo perché nei disegni ci sono molti dei disegni degli schizzi che accompagnano il concorso che parlano di questo percorso invece non monumentale ma il percorso circolare a valle ecco questa è un'immagine insomma in cui si vede la ricchezza anche dell'apparato vegetale in cui si vede l'elemento appunto rinascimentale ma anche il moresco ma anche la riflessione sul giardino inglese perché poi anche qui insomma come avevamo visto Persichéin da cui lei aveva studiato ma c'è anche un'assimilazione assoluta di quello che è per esempio il progetto di Villa Madama a Montemario che è il riferimento più vicino proprio anche fisicamente in cui ad esempio insomma si richiama l'ingresso proprio con queste due braccia richiama il progetto di Raffaello Antonio da Sangallo ma è realizzato un po' quello di cui parlava di cui si parlava stamattina di questa reimmaginazione dei giardini alla fine dell'Ottocento ecco il secondo progetto che vi presento è questo del cimitero Flaminio che è quello forse meno conosciuto ancora meno conosciuto da una parte è la tavola che si è ritrovata del progetto in cui si vede che questo progetto non è altro che la riflessione già fatta sul cimitero militare francese ma portata ad una scala sicuramente più ampia e più vasta più monumentale per certi versi ma ha completamente una dimensione diversa dall'altra sulla destra vedete una mappa del 1971 che fa vedere anche questo questo progetto è il risultato di un concorso sempre del 1945 e qui di fatto subito dopo il progetto del cimitero militare francese e appunto nel 1945 nel 1971 in realtà si vede che solo una parte piccolissima verso l'ingresso è stata realizzata non tutto quasi niente insomma di quello che era il progetto originale viene realizzato ma ecco qui sono riuscita a ritrovare quelle che erano le indicazioni del progetto della giuria la giuria tra l'altro Luigi Piscinato Mario Tedeschi Aldo della Rocca Maccari insomma c'erano tutti quelli di cui abbiamo anche già parlato e un'indicazione da parte della giuria la bellezza dei luoghi l'andamento collinoso del terreno e la necessità di realizzare economie nelle opere consigliano di impostare il progetto non tanto su concetti di monumentalità architettonica formale quanto piuttosto su una benintesa comprensione del paesaggio e sul logico sfruttamento dell'andamento del terreno ecco questo è poi una foto presa da Google Maps che si vede insomma la distanza certa ma in questa relazione del 1971 in cui si fanno pesanti modifiche al progetto di Parpagliolo e Luzzatto si dice anche che in realtà alcune cose verranno riprese perché l'andamento degli assi viari invece si sposa perfettamente appunto con quello che è il sistema delle acque il sistema è un in qualche modo si vede una certa parentela fra i due progetti gli assi viari in particolare vengono leggermente modificati ma l'assetto generale no ecco questa un'immagine oggi di quella che a mio avviso è forse la parte più vicina alla la parte originale del cimitero quindi quella che molto probabilmente è stata la diretta conseguenza insomma del progetto di Luzzatto e Parpagliolo ecco questa è anche la cappella che poi viene realizzata dentro il cimitero Flaminio da Elena Luzzatto ma non abbiamo né disegni né la cappella è inagibile quindi non è non è possibile entrare quindi questo insomma sarebbe un altro elemento insomma la tutela di tutti questi edifici è assolutamente fondamentale non mi soffermo oltre sul fatto che ecco entrambi questi progetti quindi il cimitero militare francese e il cimitero Flaminio sono entrambi nella mostra del 1848 perché in realtà il cimitero militare francese è incluso nel Great Britain come uno dei progetti di Maria Teresa Parpagliolo perché lei in realtà risulta fra anche i progettisti inglesi e da qui appunto nasce entrambi insomma poi dopo si ritroveranno nel 1950 a firmare questo questo progetto e ecco chiudo diciamo direttamente da un punto di vista compositivo le due progettiste disegnano il cimitero militare francese e quello di prima porta ricollegandosi direttamente al dibattito del 18esimo e 19esimo secolo delle tombe nel paesaggio con contaminazioni provenienti dal giardino rinascimentale italiano islamico ma anche con i nesti profondi nella tradizione mediterranea rurale nella ricerca di un'essenzialità più compiutamente moderna questa capacità di lasciare coesistere con sintassi paratattica più registri formali ben si esposa con la possibilità appunto di lasciare visitatori diversi percorsi di fruizione del parco quindi diciamo il percorso lineare con il percorso circolare che richiamano l'incontro e lo scontro del tempo come evoluzione progressiva e come eterno ritorno e anche qui chiudo dicendo che in realtà questi due progetti di Elena Luzzatto saranno poi secondo me anche fondativi di un modo di rivedere le architetture e i suoi progetti successivi questi sono alcuni degli esempi per esempio il primo in alto è una scuola a Villa Chigi che poi non verrà realizzata a destra invece abbiamo la villa di Ernest Bernard che è stato lo psicanalista di Fellini di cui lei realizza la villa a Bracciano ma anche questa villa a Taormina con i terrazzamenti che si adagia sul declivio o ancora un progetto per l'istituto Ippai a Siena che ancora appunto sto cercando di capire di avere più informazioni insomma a riguardo e dall'altro chiudo sottolineando anche il significato un po' simbolico di questo progetto del cimitero militare francese per cui due donne nei casi della vita per cui due donne realizzano un cimitero dedicato alle truppe francesi in Italia non dimentichiamo appunto il libro La Ciociara di Alberto Moravia che parla appunto dei soprusi che all'epoca ovviamente nel 45 ancora non si conoscevano ma che subito negli anni 50 verranno riportati alla stampa e diventeranno un caso appunto nazionale le cosiddette marocchinate e chiudo in assoluto con questa secondo me bella la storia ha spesso un suo modo inaspettato di ribaltare le vicende degli uomini e a farlo nel loro piccolo saranno in questi stessi giorni proprio due donne che risponderanno all'orrore della guerra e dei soprusi radicando e consegnando alla terra le anime dei morti lì dove era stato versato il sangue di militari e civili poiché come lo stesso Moravia ci ricorda siamo piante e non uomini o meglio più piante che uomini e dalla terra dove siamo nati viene tutta la nostra forza e se l'abbandoniamo non siamo più piante né uomini ma straccetti leggeri che la vita può sbattere di qua e di là secondo il vento delle circostanze grazie grazie Monica credo che per me ma credo che per tutti noi ci siano tantissime novità tantissimo materiale inedito su questa donna e veramente stiamo aprendo delle prospettive molto molto interessanti e mi sembra che sia un'occasione molto bella prima di cominciare la pausa vorrei rivolgere un saluto ad Anna Porcinai che ci ha raggiunto e vorrei esprimere a lei un ringraziamento come ho ringraziato prima Giancarlo Busirivici per questo enorme meraviglioso lavoro che state facendo per conservare la memoria del lavoro la testimonianza di quello che i vostri genitori hanno fatto e state permettendo a noi di poterne usufruire e di poterlo conoscere quindi io penso che persone come Anna Porcinai e Giancarlo Busirivici veramente abbiano meriti in tutta la nostra riconoscenza grazie grazie di condividere con noi questo momento allora Franco ha scritto dei libri che sono memorabili la storia dei giardini pubblici ha lavorato molto su questo concetto che io trovo molto interessante anche dell'uso comune quindi dell'approccio dell'uso comune ad esempio su Common Field una delle ultime pubblicazioni che ha fatto ed è un tema a lui molto caro e ha lavorato molto sui giardini delle Marche è il nostro referente appgi e collabora con noi per tante cose quindi e tante cose nonché presidente dell'associazione Porcinai succedendo a Luigi Latini per cui ha un compito ben importante di gestire questo patrimonio non da poco visto che Porcinai è una delle figure più rilevanti del Novecento abbiamo ben due interventi intervento di Franco a cui farà seguito l'intervento di Tessa Matteini ecco prego Franco puoi andare grazie grazie di questo invito abbiamo già salutato Anna Porcinai lasciatemi ricordare il fatto che grazie a lei che ha salvaguardato e ordinato questo l'archivio di Pietro Porcinai che possiamo continuare a studiare la figura di questo paesaggista e poi visto che hai citato il fatto che sono presidente dell'associazione Pietro Porcinai saluto i soci dell'associazione che sono ben presenti qui in aula allora Pietro Porcinai io ho scelto di occuparmi di un di un aspetto molto specifico della progettualità di Pietro Porcinai vale a dire la sua capacità di mettere in relazione i suoi progetti con le architetture di riferimento con le architetture con cui il giardino il parco si confronta ho scelto questa immagine della villa progettata del giardino della villa di Federico Maggia sulle colline torinesi se guardate questa immagine potrei chiudere qui questo mio intervento perché parla da solo Pietro Porcinai lo conoscete immagino conosciate anche come Pietro Porcinai abbia attraversato l'intero panorama delle possibilità progettuali che si offrono all'architetto del paesaggio ha ovviamente progettato giardini di ville private ha progettato gli spazi che attorniano edifici industriali o complessi di uffici ha realizzato piani paesaggistici come quello che vedete in alto per l'autostrada del Brennero ha partecipato alle sistemazioni almeno progettuali di aree archeologiche è intervenuto sul tema dei parchi tematici in alto il parco di Pinocchio a Collodi ha lungamente lavorato per la progettazione delle aree verdi dei villaggi turistici è intervenuto nel realizzare attraverso il materiale vegetale l'arredo interno di spazi come quello del famoso salone dell'hotel Papadopoli a Venezia è stato un designer di arredi di giardini di grande capacità in basso vedete una seduta e alcuni vasi è stato un imprenditore del settore fondando costituendo in vari momenti della sua attività società realizzati per la costruzione di giardini ma torniamo al tema verso cui rivolgo la mia attenzione già questa mattina abbiamo parlato del fatto che verso la fine del XIX secolo si siano iniziati a realizzare dei giardini con alcune caratteristiche particolari cioè costruiti attraverso stanze e quindi abbandonato quella irregolarità che aveva connotato negli aspetti alti e bassi il giardino ottocentesco a titolo d'esempio cito qui un giardino di Gertrude Jekyll quello della villa di Bois de Moutienne in Normandia in Francia l'architettura di Latchens e giardini della Jekyll voi sapete che la coppia agiva molto sovente insieme ora in questo caso oltre a organizzare in maniera planimetricamente definita il giardino come vedete nella foto aerea la Jekyll aggiunge un tocco di riferimento all'architettura perché per le specie fiorite utilizzate sia per le bordure che per la costruzione dei quadri del giardino utilizza delle piante che hanno una colorazione che è ispirata in maniera ovviamente poetica all'utilizzo interno delle stanze della villa e quindi trova una corrispondenza fra l'architettura costruita e il giardino questa mattina è stata anche citata Edith Wharton la grande scrittrice statunitense prima donna a vincere il premio Pulitzer con il suo romanzo l'età dell'innocenza ma anche grande giornalista che scrive d'Italia e scrive di giardini italiani i suoi articoli sono poi riuniti in questo volume che questa mattina è stato ricordato Italian Villas and their gardens ora preso da 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 questo testo badate bene il testo si rivolge a un'utenza statunitense in particolare di coloro che negli Stati Uniti vogliono realizzare un giardino all'italiana che come abbiamo ampiamente detto è fra nei primi due decenni tre decenni del novecento molto in voga e la Wharton nota la specificità del giardino italiano indicando come il giardino terrazzato sia lo spazio di mediazione fra la stereometria dell'architettura dell'edificio e la libera conformazione dei boschi o del panorama paesaggistico verso cui il giardino si rivolge quindi ha un ruolo molto preciso d'altra parte come non pensare al luogo in cui lavorava Martino Porcinai il padre di Pietro Porcinai capo giardinere nella Villa Gamberaia a Settignano che appunto nel primo decennio del secolo viene riconfigurata in forma di un fantasioso parterre d'acqua che ha però esplicito riferimento nella sua collocazione e dimensione con l'edificio della villa a cui è affiancato ed è costruito come una grande stanza verde affacciata sul paesaggio queste sono foto per l'appunto di Benjamin Johnston una fotografa statunitense che negli anni venti fotografa i giardini italiani e lascia delle magnifiche fotografie sono diapositive su vetro colorati a mano in cui appare evidente questo trattamento quasi da salone da sala perimetrata da arcature e finestrature del giardino il passiamo a Pietro Porcinai e vediamo come questa questo senso della della costruzione in forme regolari e riferite ai manufatti architettonici che sono nel giardino vengono poi applicate nel suo disegno partiamo da un progetto che a cui Porcinai si trova a a a a predisporre per la famiglia reale a Lecce che è proprietaria di una vasta tenuta che ancora che qui vedete in questa immagine aerea e l'edificio in questo caso è sulla sinistra probabilmente lo scorgete qui la foto è girata perché è messa in relazione ad una pianta di fine ottocento della città di Lecce dove si vede la proprietà reale per la quale il Porcinai Pietro Porcinai poco più che ventenne che in quel momento lavora ancora per i vivai bianchi di Pistoia e proprio ai vivai bianchi di Pistoia ci sarà l'incontro attraverso cui avrà questa committenza è chiamata a gestire a disegnare questa grande proprietà vede sulla sinistra che seguendo quello stile un po' Gardenesque post vittoriano in auge negli ultimi decenni dell'ottocento che per realtà apprezziamo tanto però Porcinai interviene cancellando questa sorta di tenaglia di aiuole sinuose che cingono l'edificio e fa innanzitutto un'operazione molto interessante sposta l'accesso che è rassiale alla villa stessa nella parte quindi bassa della pianta di sinistra e lo porta laterale in maniera tale da creare una costruzione ben più articolata perché lateralmente entrando si trova un primo giardino che è il giardino della portineria di piccola dimensione regolare su cui si affaccia dal colonnato della portineria si prosegue poi verso l'edificio della villa che è un edificio che ha una risistemazione alla fine degli anni 20 all'inizio degli anni 30 i lavori nel giardino iniziano nel 33 di non particolare pregio ma con una sua imponenza e in corrispondenza della villa Porcinae realizza un giardino anteriore assiale rispetto alla villa che ha al centro una sorta di boulangrain uno spazio ribassato con un piccolo bacino centrale e laddove era invece l'accesso originale crea una quinta di cipressi che chiude della vista verso l'edilizia che ormai stava avanzando circondando la villa stessa questo accenno di asse di riferimento prosegue sul versante opposto della villa sul versante posteriore attraverso la costruzione di un lungo viale cinto da pini che percorre l'intera proprietà ribadendo peraltro l'unico vero asse che esisteva nel parco nel parco ottocentesco ma lungo questo percorso pone una serie di episodi un pozzo quattro cabine di verdura che sono in un punto di incrocio degli assi trasversali e in fondo esisteva già questo padiglione cafe house dopodiché dalla villa o all'intorno della villa partono degli assi come questo straordinario che era originariamente segnato da questa siepe addonde si vede poco ma se guardate la siepa testa vedete forse un trattamento intoppiare addonde da cui emerge questa collezione di orci e grandi vasi e poi anche attraverso alcuni viali trasversali che hanno al loro punto di incrocio delle sedute disegna l'intera proprietà per aree tematiche qui sono riassunte solo alcune di queste c'è un frutteto agrumeto c'è un univeto purtroppo devastato dalla xylella ormai c'era un roseto un piazzale dei carrubi un giardino delle piante esotiche quindi una un'attitudine al disegnare una certa compartimentazione come peraltro abbiamo visto essere proprie anche di altri progettisti del periodo ma nel nostro caso di diretta descendenza della della volumetria e della composizione delle facciate dell'oggetto architettonico verso cui il giardino si rivolge questa sua attitudine se andasse avanti ops questa sua attitudine che affina negli anni successivi è percepibile nei progetti sia di piccola che di grande dimensione questo è un giardinetto del 1936 Parioli a Roma che è affiancata ad un edificio moderno e vedete in questa scansione quasi didascalica replica la scansione interna dell'edificio e costruisce un piccolo giardino con partizioni funzionali e tematiche che replicano in qualche maniera alla scansione interna un edificio un complesso in cui questa sua attitudine è visibilissima è la già citata Villa dei Collazzi a Scandicci se si guarda una foto aerea del del luogo si vede benissimo come siamo di fronte a una sorta di scomposizione di giardino italiano che viene rivolto in guise diverse a seconda della facciata dell'edificio manierista cinquecentesco a cui si rivolge un bacino piscina con un con un con un cerchio di di cipressi in alto sulla destra e mentre in riferimento alla facciata principale rivolta a valle Porcinaia disegna un giardino terrazzato questo è il giardino superiore che con tutti conoscono è straordinario perché siamo arriviamo alla essenzialità del giardino italiano se posso dirlo questi sono alcuni dei disegni di progetto che sono presenti nell'archivio Porcinaia delle diverse soluzioni poi alla fine Porcinaia sceglierà la soluzione più semplice è un bacino quadrangolare posto al centro di questo spazio verde piano con in fondo un circolo di cipressi e poi in questa immagine a sinistra la chiusura monte il selvatico evocato da questa linea di cipressi e a valle l'apertura verso il paesaggio mentre sotto la facciata principale costruirà un terrazzamento che poi di grada verso l'univeto un giardino più complesso alla fine degli anni trenta viene chiamato da un industriale tessile torinese Federico Maggia a realizzare il giardino per una villa i cui lavori di costruzione erano già iniziati la villa su progetto di Ottorino Aloisio architetto moderno o modernista a seconda del come si preferisca torinese è interessante perché Maggia chiamerà Porcinai perché ha letto i suoi articoli su Domus perché come la Parpagliolo anche Porcinai è chiamato a collaborare a quella che fu definita la campagna di Domus per il verde il progetto appare infatti nel 41 su Domus e qui vedete le pagine e sulla destra è un'immagine a colori sempre tratta dalle pagine di Domus dove vedete questa piscina disegnata da Porcinai e il il grande salice piangente purtroppo non più esistente da lui fatto porre per affiancarci appunto ad uno specchio d'acqua questa è la planimetria la prima planimetria di progetto che Porcinai nel settembre 38 in via al Maggia la zona grigia è stata da me enfatizzata quindi è una mia colorazione vedete come gli spazi del giardino che è molto più ampio di questo questa è una villa su un appendice in alcuni casi piuttosto a clive e c'è una grande parte di giardino poi superiore con un grande roseto che però non ha più riferimento alla villa perché non c'è più una visibilità diretta con la villa ma all'intorno della villa vedete come il giardino si è coniugato in relazione alla complessa volumetria della villa la villa infatti aveva nella parte di sinistra era un casale che viene riadattato a cui vengono aggiunti però nuovi corpi che sono quelli nella parte di destra a seconda della scansione dei diversi corpi si articola Porcinai articola il disegno di un giardino questo è il disegno definitivo dove vedete aggiunto una piscina e un campo da tennis Porcinai è molto attento a proporre sempre spazi per attività fisiche perché si è reso conto non solo piacevano a lui ma si è reso conto che altrove fanno ormai parte integrante dei giardini guardando le riviste ha potuto ormai notare come gli spazi per gioco atletica piscina siano ormai entrati a far parte del disegno dei giardini e li proporrà sempre ora vedete come il disegno tutto sommato incroci l'ortogonalità della costruzione dell'edificio dell'architettura questo è l'ingresso a monte e vedete vedete che lo sguardo è aperto già dall'ingresso verso il paesaggio quindi c'è una collaborazione abbastanza costante da parte di Porcinai con l'architetto e la costruzione a valle di una sistemazione con terrazzi bassi senza nessuna sorta di balaustre che aprono la vista verso il paesaggio non si cade qualcuno strabuzza gli occhi è abbastanza clima ma non si precipita però questo 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 espediente permette di avere questa vista prolungata sin dall'accesso aperto verso il paesaggio a valle lungo l'asse ortogonale invece quello che attraversa anche attraverso un corridoio di servizio l'interno dell'edificio questa longitudinalità viene prolungata da un lato verso questo giardino rivolto per l'appunto alla zona di soggiorno e il percorso porterà al parcheggio che è allontanato Porcinai odia la vista delle auto dagli edifici e per tutta la vita continuerà a spostarli quanto più lontano possibile o a nasconderli quando è necessario mantenerli dalla parte opposta questo asse porta come dicevamo a una zona palestra dal punto di vista dell'architettura di ciò che è all'interno dell'architettura e piscina la piscina è stata purtroppo ridotta rispetto al suo disegno originario che aveva una zona con una profondità minore per i bambini ed una pergola che affianca l'insieme una pergola piuttosto rustica ti ha i montanti vedete in granito all'uso locale all'uso delle valli alpine questo è un piccolo quasi vezzo di Porcinai costruirà sempre pergole che sono ispirate alla modalità del luogo in cui il giardino è realizzato in un angolo questo patio che era previsto dal progetto architettonico a cui Porcinai aggiunge questa deliziosa vasca con un elemento che segnala il bacino centrale ora se in una in architetture residenziali in edifici storici è ben comprensibile come ci sia una derivazione della costruzione e articolazione del giardino che sia direttamente riferita appunto all'edificio di riferimento può sembrare un po' più singolare che ciò avvenga anche in occasione della realizzazione degli spazi verdi di complesse industriali come ad esempio avviene verso un altro progetto in un altro progetto assai celebre di Porcinai che sono gli spazi verdi della fabbrica Olivetti di Pozzuoli realizzata la fabbrica a partire dal 1951 Porcinai subentra nel 52 qui ne vedete alcune immagini tutto sommato recenti il luogo che era stato scelto da Adriano Olivetti per la realizzazione della sua fabbrica nel sud d'Italia era stato Pozzuoli in una situazione che dal punto di vista paesaggistico era straordinariamente interessante perché era una Pozzuoli ancora piuttosto contenuta nella sua espansione urbana e il luogo era al centro di un'area di frutteti e rivolta verso il golfo Olivetti l'aveva scelta perché voleva che fosse un ambiente di lavoro salubre gradevole e piacevole e che coloro che lavoravano in fabbrica potessero godere dello straordinario panorama di questo luogo Olivetti era un sognatore come sappiamo e quindi aveva incaricato di redigere il progetto architettonico Luigi Cosenza architetto ingegnere napoletano assai noto Cosenza aveva per Olivetti preparato anche un piano paesistico della Campania negli anni della guerra mai mai nemmeno pubblicato poi e per venire incontro all' espressa volontà di Olivetti Cosenza disegna un edificio industriale a croce che vedete a destra perché è la croce perché così si sarebbero moltiplicati gli spazi vetrati esposti verso il panorama e verso il paesaggio nella primavera del 52 a cantiere avviato che Porcinai viene contattato per predisporre il progetto degli spazi verdi non ha tempo di andare viene chiamato non può andare in quel momento per i troppi lavori che incombono e gli vengono inviati le foto di cantiere queste sono le foto che sono conservate in archivio Porcinai del luglio dell'avanzamento del cantiere luglio 52 stesso pacchetto nelle immagini precedenti avete visto questa costruzione con pilassi circolari del padiglione della vera propria fabbrica perché poi c'è un manufatto di uffici e questa è la foto generale del cantiere che nella parte più bassa si affaccia sulla via Domiziana e poi guarda il mare Cosenza dopo aver avviato questa costruzione piuttosto innovativa è però colto da grandi dubbi anche perché sono i medesimi che gli vengono segnalati dagli uffici delle Olivetti da Ivrea che non volevano assolutamente questo questo manufatto in forma cruciformi ma lo volevano invece a padiglione così come erano le fabbriche ad Ivrea e cosa tormenta Cosenza l'insolazione ovviamente perché di fronte al al golfo ovviamente la l'insolazione che questo questo edificio di cui erano state moltiplicate le facce vetrate sarebbe stata forse eccessiva e quindi scrive a Porcinai comincia un balletto che è tutto conservato in archivio di richieste a Porcinai di trovare i metodi per coprire con alberature con materiale vegetale le pareti della fabbrica all'inizio Cosenza con grande poeticità vorrebbe fare vorrebbe fare delle grandi distese di viti a festone all'uso campano alte Porcinai a cui forse però gli era piaciuta dice no architetto io propongo qualcosa di diverso e quindi fin dall'inizio comincia a proporre una serie di soluzioni diverse prima di tutte quella del piantare una serie un consistente filari di platani intorno all'edificio principale ma rimangono le minute preparate da Porcinai di tutte le diverse soluzioni le officine di attrezzaggio alberelli di mandarino riflessi della vasca piantiagioni al bordo e così è molto molto interessante molto divertente come divertente è che trova il luogo per mettere un'altra pergola questa volta la sorrentina davanti alla mensa io penso che divertente che gli operai che si trovavano a lavorare in un ambiente tutto sommato per loro così assolutamente nuovo così moderno e nuovo ritrovassero però nella mensa una trazza della loro quotidianità in questa pergola alla sorrentina questo è il progetto definitivo che è fatto appunto all'inizio del 1953 ora proviamo ad analizzarlo voi vedete la piantagione serrata dei platani intorno all'edificio a croce a ben guardare c'è qualcosa ancora da osservare assolutamente interessante è che questi platani seguono la ortogonalità e la scansione delle pilastrature circolari che sono all'interno dell'edificio vale a dire sono pilastri verdi che sono posti all'esterno dell'edificio stesso ma con la stessa orditura quindi anche in questa situazione trovo la modalità di creare una continuità fra l'edificio architettonico e lo spazio verde esterno un'idea che probabilmente gli è suggerita dalle foto o di progetto del progetto del cantiere in corso che gli sono state inviate e forse anche dal fatto che Cosenza gli scrive che non appena erano state messe le vetrate gli uccelli andavano a sbattere con questa vetrata perché pensavano che all'interno lui dice forse c'erano degli alberi perché vedevano questi pilastri e quindi questa pilastra qui ci sono delle foto degli anni di poco questa Cartier-Bresson dove si vedono i platani all'epoca impiantata in queste foto aeree ancora oggi si scorgono seppure sono stati maltrattati quanto più possibile si scorge ancora questa serrata piantagione di platani intorno all'edificio industriale questi sono disegni di progetto e qui si vedono gli altri elementi che fanno parte di questa composizione perché non c'è solo la piantagione di platani c'è ad esempio il riverdimento di questa sorta di duna che vedete questo è il terreno di scavo del cantiere che era stato accumulato davanti all'area in cui si stava costruendo il manufatto della fabbrica che Porcinai proporre di lasciare e rinverdire in modo che siccome è posto in pendenza si scopra salendo e attraversando questa duna il complesso e quindi non lo si vede a tutto invece con un'unica visione infatti a sinistra vedete la foto la foto di cantiere a destra questa sorta di grande duna che anticipa la zona degli uffici poi altri elementi sono questo bacino lobato che è un bacino che ha una funzione di serbatoio antincendio ma in cui Porcinai avrebbe voluto aggiungere delle piante acquatiche e infatti prepara vedete a sinistra il disegno delle vasche ribassate in cui in cui piantare non a caso sarà a lui che verrà chiesto di preparare il disegno degli spazi d'acqua delle tombe Brion in cui applicherà questo stesso principio dei pozzetti ribassati in cui contenere le piantagioni qui non verranno mai fatti e poi applicherà un principio per l'epoca assolutamente straordinario rinverdirà i tetti dei parcheggi ora come vi ho detto odiava alla vista delle auto e questo era il parcheggio dagli uffici si sarebbero viste le auto parcheggiate e poi il golfo e lo evita con queste coperture a prato purtroppo oggi scomparse da ultimo propone di ripristinare i pini la linearità della piantata di pini lungo la via domiziana in cui mancavano alcuni esemplari come vedete questa sarà una lotta che purtroppo non giungerà fine perché gli uffici dell'olivetti si rifiuderanno di pagare i pini per la strada pubblica e quindi questo progetto è costituito da il riverbero il riflesso della costruzione interna degli edifici nella linearità delle piantate dei platani esterni si sto chiudendo la vasca d'acqua come abbiamo visto e la duna alcune zone a frutteto che lui pone all'intorno per mediare il rapporto con il paesaggio circostante e i pini della via domiziana queste sono immagini d'epoca e attuali del luogo chiudo con un filmatino se la che ecco che dovrebbe andare controllo delle prove definitive la macchina perfetta fatto fare e però rende appieno questa geniale idea di avere un luogo industriale no questo non c'è preoccupatevi rende appieno questa idea del tutto geniale avere un luogo di produzione industriale all'interno di uno spazio verde e queste immagini credo che dimostrino la riuscita grazie grazie franco quanto c'è ancora da studiare da scoprire da scavare in questo archivio e devo dire che in particolare mi è molto colpito questa parte sul rapporto tra struttura industriale e giardino che mi sembra un tema molto molto interessante se penso che in quello stesso periodo c'era anche l'esperienza di Olivetti a Biella un'altra esperienza interessantissima insomma è un tema molto molto intrigante da affrontare quindi grazie franco continuiamo con Porcinai con Tessa Matteini docente all'università di Firenze direttore del master in architettura del paesaggio sempre a Firenze Tessa Matteini in collaborazione con Pantini ha scritto si è occupata di varie sedi di Porcinai ma ha anche scritto dei testi di grandissimo interesse sul rapporto archeologia e paesaggio che in un certo senso riprendono un po' i temi che De Vico stamattina ci ha illustrato però in una logica attuale e soprattutto anche in una logica dell'archeologia applicata al paesaggio come scavo indagine e così via quindi un interesse di Tessa per il giardino in varie direzioni sentiamo adesso che ci racconta sui rapporti internazionali di Pietro Porcinai grazie grazie buonasera a tutti è un grande piacere essere qui un onore e sono stata anche molto felice di ascoltare le relazioni precedenti un ringraziamento d'obbligo agli organizzatori ad Alberta per l'invito ma anche a Anna Porcinai che oggi fra l'altro è qui e che diciamo ci ha accompagnato in tutte le ricerche che sono state fatte in archivio e quindi questo mi sento di ringraziarla una volta di più dunque il tema del quale abbiamo concordato che avrei potuto parlare oggi sono la dimensione internazionale di Porcinai e questi sono i punti che in sintesi quindi cinque punti più uno che vorrei proporvi e in particolare il ritorno alla Gamberaia dove ci ha portato Franco perché è evidente che la dimensione nell'attitudine nell'abitudine al contesto internazionale che Porcinai ha maturato nasce proprio là dove muove i suoi primi passi che è un contesto importantissimo per la relazione tra giardino e architettura ma anche per il confronto con un mondo molto più ampio della piccola locale Firenze quindi siamo in un giardino aereo sospeso sulle colline di Settignano nel 1910 proprio quando Pietro nasce la principessa rumena Ghica insieme a Martino Porcinai lavora al rifacimento del Parterdò che anche qui è rappresentativo di un modo diverso di intendere il giardino italiano e la sua trasformazione nel ventesimo secolo in particolar modo Zangheri Luigi Zangheri ha ricordato gli echi quasi arabi orientaleggianti e anche richiamo alle Mixed Border che in questo Parterdò che sostituisce la precedente sistemazione del giardino si possono ritrovare scusate sto andando all'indietro uno dei protagonisti di questa comunità internazionale che si era sistemata sulle colline fiorentine quindi Bernard Berenson ci ricorda l'unicità e l'importanza di Villa Gamberaia e del Muglier che girava intorno a questo luogo dove appunto la principessa Ghica e Miss Blood stavano ritirate e quindi la Gamberaia viene definita uno dei fari uno delle soste magiche nella vita scusate l'autorevolezza dei diversi studiosi che all'inizio del Novecento parlano della Gamberaia qui vedete un'antologia celebra dove troviamo Janet Ross Edith Wharton Evelyn March Inigo Triggs Jeffrey Gellico ci fa capire quanto questo giardino sia stato rappresentativo per la cultura del ventesimo secolo anch'io richiamo Edith Wharton ma non per la relazione fra giardino e architettura ma per l'importanza che la scrittrice americana dà alla Gamberaia come esempio più perfetto di un giardino con tutte le sue categorie di elementi legati alla tradizione italiana e in questo senso ha un trattamento particolare della Gamberaia perché viene discussa e definita molto in dettaglio quindi è proprio tipica l'excellence of the old Italian garden quindi capiamo che chi nasce in questo contesto non può non guardare anche al mondo pochi anni dopo nel 1925 altro testo fondamentale Jeffrey Gellico e Shefford scrivono un volume sull'Italian Gardens of the Renaissance dove ovviamente Villa Gamberaia trova posto e la cosa interessante e commovente è che il volume è anche oggi conservato all'interno della biblioteca di Porcinai e all'interno dell'archivio di Villa Rondinelli Porcinai è stato riconosciuto in Italia tardivamente possiamo dire che al di fuori dei circoli dei paesaggisti al di fuori dell'IAP riconoscimento italiano è stato molto tardivo diciamo dopo la morte ma invece all'estero ha sempre avuto una grande autorevolezza ed è stato riconosciuto e celebrato in diversi contesti come ambasciatore della cultura del giardino due riconoscimenti fra tutti testimoniano l'importanza e l'autorevolezza e sono l'anello di Friedrich Ludwig von Skell che gli viene consegnato nel 1979 dall'Accademia Bavarese delle Belle Arti e Porcinai è l'unico non tedesco a ricevere questo riconoscimento quindi fa capire anche l'importanza nel mondo appunto di lingua tedesca e l'altro riconoscimento è la voce monografica sull'Obsford Companion to Gardens in cui si dedica a Porcinai unico italiano vivente ancora per poco perché siamo nell'86 una scheda in un testo fondamentale per la cultura del giardino uno dei curatori anzi il principale di questo testo è proprio Geoffrey Gellico che è stato più volte evocato oggi che per Porcinai è stato senza dubbio un riferimento culturale questo è all'interno della biblioteca di Porcinai troviamo Studies in Landscape Design di Geoffrey Gellico ma soprattutto c'è anche un rapporto umano e una lunga amicizia credo che la frase con la quale Geoffrey Gellico definisce Porcinai sia forse la più adatta per farci capire in che modo era considerato all'estero ci sorprese che in una terra famosa per i giardini classici non esistesse evidentemente nessun altro professionista italiano del suo calibro la sua particolare genialità consiste nell'aver riconosciuto e assorbito le qualità del mondo classico e per loro tramite di aver fatto irruzione nel mondo del ventesimo secolo e questo ci porta anche a un'altra conoscenza e amicizia di Porcinai che è René Pescher altra figura fondamentale nella cultura del giardino del novecento Pescher non solo ci racconta appunto della dimensione internazionale di Porcinai anche legata alla sua capacità di parlare le lingue parlava il francese in modo incantevole alla perfezione con la stessa musicalità il tedesco e l'inglese ma parla anche di una particolare attenzione di Porcinai alla bellezza l'umanità e il mistero dei giardini e si interessava al tema del giardino e della storia del giardino e al giardino storico quando dentro Ifla questo tema era visto come solo una porzione della complessità degli elementi da considerare infatti racconta Pescher che in una comunicazione dell'Ifla a Oxford Porcinai si alzò dopo il discorso di Pescher e disse la prima volta negli ultimi dieci anni che sento di nuovo parlare di giardini quindi il giardino come dimensione attraverso la quale interpretare anche la complessità del paesaggio Pescher non ha bisogno di presentazioni è un autore di numerosissimi giardini in Belgio e all'estero ma è soprattutto anche un divulgatore dei segreti del mestiere e un pubblicista e questa immagine nel Foro Romano rende probabilmente l'idea sul ruolo che appunto Porcinai rivestiva nella comunità internazionale quindi l'ambasciatore della cultura del giardino classico però transitato nel ventesimo secolo e per avere questo ruolo probabilmente lui aveva anche una come dire muoveva l'immaginario dei colleghi dei Lenske Park e dei stranieri perché poi lo studio arrampicato sulle colline Fiesolane dopo l'altro studio del Lungarno Corsini con Baroni e Tempestini quindi lui dopo alla morte poi dei due colleghi si stabilisce il suo studio quindi in un luogo piuttosto simbolico è uno studio che oggi accoglie l'archivio e che conserva anche le sistemazioni paesaggistiche volute da Porcinai ma è anche un elemento che faceva parte un tempo delle proprietà di Villa Medici a Fiesoli quindi un altro dei giardini celebrati come negli Italian Gardens of the Renaissance è anche uno dei luoghi dove lavora Pinsent quindi uno degli anglo-fiorentini che cambiano la cultura del giardino italiano nei primi decenni del Novecento l'archivio e lo studio hanno all'interno anche un ninfeo del XVI secolo che è stato attribuito da alcuni autori al Buon Talenti ma soprattutto è interessante per capire alcune sistemazioni paesaggistiche che poi Porcinai farà successivamente in particolare la ricreazione di una sorta di grotta o ninfeo questa foto l'ha già mostrata anche Franco qui siamo nel giardino d'inverno di Villa la terrazza e qui vediamo invece una foto dell'amico e collega Luigi Latini diciamo lo spogliatoio a Villa Donè di San Michele di Pagana che evidentemente è stato ricreato come un moderno ninfeo sicuramente la dimensione internazionale di Porcinai trova nutrimento nella cerchia dei paesaggisti internazionali quindi primo luogo nella partecipazione alle riunioni di IFLA di ICOMOS e più di recente anche del Consiglio di Europa l'archivio di Villa Rondinelli custodito con cura e attenzione da Anna Porcinai offre numerose tracce per una ricerca in questo senso perché i nomi dei colleghi internazionali e anche delle esperienze internazionali sono davvero innumerevoli e certamente un momento cruciale per il lavoro a livello internazionale è la fondazione di IFLA Cambridge che è stata richiamata oggi più volte e quindi la costituzione di una comunità internazionale dei paesaggisti che si confronta interagisce discute se guardiamo i nomi nel panel dei founder members dell'IFLA e quindi quelli che partecipano poi alle riunioni fra il 1948 e il 1984 vediamo che numerosi sono i nomi con i quali poi delle persone con le quali poi Porcinai avrebbe intessuto delle relazioni importanti quindi abbiamo visto Gellico abbiamo visto Pescher Cabral Bodorf ma sicuramente dobbiamo ricordare un'altra figura fondamentale che è Silvia Crow già stata ricordata da Cristina Imbroglini che nel panel di IFLA riveste un ruolo particolare come progettista di giardini e di paesaggi uno dei suoi libri che è un riferimento assoluto per la cultura del giardino del 1900 è proprio Garden Design che è del 1958 nel quale c'è un elemento una foto che riporta un progetto di Porcinai e vedete che in questa lettera conservata in archivio del 27 giugno del 78 per una riedizione del libro Silvia Crow chiede a Porcinai se gli avrebbe permesso di utilizzare nuovamente questa bellissima definizione Narrow winding flight of steps disappearing between overhanging willows che è appunto la scala di Villabona o primo sole a Torino e quindi appunto l'iconicità colpisce Silvia Crow che vuole pubblicarla nel suo libro dicevo che la comunità internazionale comincia a riunirsi con una certa frequenza e cominciano a svolgersi dei convegni tematici come questo che vedete sul giardino storico in Danimarca nel 1949 facendo un piccolo zoom su questa foto vedete Porcinai in alto che sta facendo a sua volta una fotografia invece vedete una figura in basso che sarà fondamentale per il giardino novecentesco in Danimarca e non solo e che possiamo lasciare descrivere alle parole di Anne Winston Spern che dice uno dei più grandi paesaggisti del ventesimo secolo il suo lavoro è monumentale e modesto pieno d'arte ma anche umano originale e compiuto serio e giocoso e trattenuto eppure libero quindi una figura cruciale per capire lo svolgimento del giardino dell'arte del giardino e del paesaggio nel novecento e Sorensen ha scritto un libro fondamentale per la cultura del giardino che è appunto 39 giardini non comuni per una casa invece ordinaria che era molto apprezzato da Porcinai e ci sono testimonianze in questo senso di invio di lettere scambio di libri siamo nel 1966 e proprio negli stessi anni in cui Porcinai aveva scritto il libretto giardini d'occidente e d'oriente con Attilio Mordini che a sua volta invia a Sorensen quindi scambi ma soprattutto possiamo dire che si confrontano due artisti del giardino e loro parlavano proprio di arte del giardino scrive Sorensen a Porcinai quanti grandi artisti del giardino lei crede che ci siano nel mondo sarebbe utile riunirli tutti insieme e Porcinai rilancia e propone di fondare un istituto internazionale per il verde a Firenze a livello appunto di tutti coloro che si occupano di giardino nell'ambito della comunità internazionale la strada è lunga e dura ma essa è la sola che noi possiamo percorrere e questa relazione fra i due che è una relazione su un percorso un possibile percorso formativo che poi non nascerà mai mette insieme anche due persone che lavorano sul giardino tra tradizione e modernità come è stato detto più volte che sono un po' le cifre che caratterizzano entrambi quindi questa rilettura dei modelli del giardino classico però anche attraverso una reinterpretazione profondamente contemporanea e un altro ruolo rivestito da Porcinai è quello di guida nel grand tour dei giardini toscani e questo è molto divertente scoprirlo in archivio perché cominciamo proprio da Sorensen che ringrazia in una lettera dell'81 Porcinai per averlo condotto a fare una visita dei giardini di Fiesole e anche allo studio di Villa Rondinelli lui scrive Rondinella ma anche in maniera proprio attiva e propositiva Sorensen vuole organizzare una summer school nei giardini medicei in Toscana e quindi si rivolge a Porcinai chiedendo di visitare queste appunto le diverse ville medice e anche cose nuove quindi cose nuove intende progetti di Porcinai vediamo che Porcinai si appunta Villa Rangoni Villa Ruspoli Serlupi e Sunt quindi possibili i suoi giardini da far visitare agli studenti di Sorensen e fornisce anche l'amico di una serie di lasciapassari per i diversi giardinieri e proprietari che dovevano aprire questi giardini si trova in archivio una lista di giardini da visitare per esempio i giardini medicei si va da quelli mugellani a Caffaggiolo fino a Careggi in ordine proprio cronologico nella sequenza in cui sono stati realizzati e vediamo però anche Villa Icollazzi prima richiamata e Villa Gamberaia e quindi insomma interessante anche questo ruolo di guida locale per i paesaggisti che da tutte le parti del mondo venivano a visitare i giardini toscani Polceneva aveva una grande cultura di storia del giardino in parte per formazione personale in parte poi consolidata per appunto la composizione di questo libro con Attilio Mordini Giardini d'Occidente e d'Oriente qui vedete una foto dell'isola di Boboli scattata diciamo per essere inserita all'interno del libro quindi c'è proprio una tensione speciale ma aveva anche una conoscenza da altri punti di vista progettuali per esempio qui vedete un'immagine del parco di Pratolino nel 1954 Vologai e qui vedete un progetto che l'anno dopo Pietro Porcinai svolge per il principe Karageorgevic che eredita la tenuta da Maria Demidoff che muore nel 55 e chiede a Porcinai di svolgere un progetto all'interno del parco di risistemazione un progetto molto interessante perché ripropone la sistemazione del Prato degli Antichi e della villa scomparsa distrutta nel XIX secolo attraverso una sistemazione vegetale anche guardare alla biblioteca e ai titoli che si trovano negli scaffali dell'archivio Porcinai è interessante per capire la voracità onnivora di Porcinai e la sua eclettica curiosità che va da Baldassarre Peruzzi al giardino inglese roccioso agli alberi da utilizzare nei parchi americani quindi una curiosità che non si ferma ai confini linguistici né disciplinari né tematici Biagio Guccione ha fatto un report dei testi contenuti nella biblioteca di Porcinai e come vedete c'è una ricchezza di testi anche del nord Europa in particolare Germania ed Inghilterra ma poi anche una composizione di tutte le varie non solo del continente europeo ma anche extraeuropeo guardando ai libri conservati nell'archivio e vedendo come sono sottolineati e sono commentati si capisce la costruzione di un metodo di lavoro attraverso uno studio attento di questi testi e di questi volumi ma sempre nell'archivio è possibile trovare varie pubblicazioni dedicate al lavoro di Porcinai in ambito internazionale quindi ancora la scala di Villabona su Gardner und Landschaft attraverso la cura di Gerda Goldwitz e invece in questo caso la scala del Roseto all'interno di una pubblicazione svizzera sulla costruzione del giardino l'arte del giardino attraverso i secoli in tutte le sue forme e manifestazioni da quello orientale a quello occidentale ha una gran parte negli scaffali della biblioteca e qui vedete ad esempio il libro di Luigi XIV per la maniera de Montrer Le Jardin de Versailles e concludo questa breve presentazione parlando di uno dei tanti incarichi a livello internazionale che Porcinai riceve sicuramente non possiamo dimenticare Hansa Firtel nel 1956 sicuramente non possiamo dimenticare la sistemazione esterna per il centro Pompidou però forse da un certo punto di vista questo è uno degli incarichi più rappresentativi che Porcinai svolge si tratta della consulenza paesaggistica per lo spostamento dei tempi di Abu Simbe fra il 1963 e il 71 il committente UNESCO e l'Unione delle Repubbliche Arabi che all'epoca era il gestore qui abbiamo la cartella di lavoro di Porcinai è un lavoro molto importante che gli insegna anche molto qui vedete i talkers are not doers perché si confronta con dei mondi molto difficili dal punto di vista anche realizzativo e insomma affrontare un tema davvero complicato i tempi di Abu Simbel sono patrimonio dell'umanità di grande importanza che erano collocati lungo il fiume e con la realizzazione della diga di Aswan rischiano di essere sommersi e quindi devono essere spostati come una serie di altri monumenti che si trovano lungo il percorso della diga quindi vedete in questo Corriere dell'UNESCO con un pizzico di comprensibile trionfalismo si racconta del salvataggio di tutti questi monumenti lungo il corso appunto del Nilo e della diga questi sono i numeri per quanto riguarda Abu Simbel e in effetti sono impressionanti quindi esperti di 24 paesi 900 operai 1305 blocchi e 60 metri di slivello perché i tempi i due tempi devono essere spostati di 60 metri appunto per evitare di essere sommersi e questa operazione appunto di dismantling moving e re-repting i tempi di Abu Simbel viene inizialmente affrontata attraverso soprattutto una logica ingegneristica e logistica cioè come si fa a smontarli e a rimontarli in realtà il problema è un enorme problema dal punto di vista culturale e paesaggistico perché spostare due siti due monumenti profondamente integrati in un paesaggio a un livello superiore crea diversi problemi di ordine soprattutto culturale patrimoniale di restauro e per questo l'UNESCO dopo aver appunto selezionato il consulting and engineering svedese che si occuperà dello spostamento crea un gruppo di consulenza di archeologi e di paesaggisti ho evidenziato in in eretto i due paesaggisti che sono Pietro Porcinai per l'Italia Sven Hansen riconosciete il nome da IFLA per la Danimarca e poi archeologi egittologi esperti in conservazione e restauro quindi questa tavolata di persone si riunisce dal 1963 al 1971 più volte per dare delle indicazioni su come effettuare quest'operazione delicatissima qui vedete una serie di linee che vengono dedicate dalla commissione allo svolgimento dell'operazione non le sto a leggere tutte ma vi faccio solo notare che ci sono una serie di indicazioni sull'orientamento sulla posizione sull'integrazione nella roccia ma si specifica che i consulting engineers devono lavorare in relazione con uno scultore importante e un paesaggista importante preparando dei piani per la sistemazione paesaggistica quindi si capisce e l'importanza del paesaggio in questa sistemazione sì sì ma ho pochissime ho tre diapositive quindi ci sono quindi questo problema che è effettivamente un problema culturale avete visto che viene citato uno scultore Porcinai aveva una grande considerazione delle arti in generale ma anche della scultura in particolare come scrive a Costantino Nivola e propone per questo infatti è suo diciamo l'input di chiamare anche uno scultore perché è effettivamente un discorso di plasmare in maniera diversa un territorio vengono fatti due nomi Isamo Noguchi o Costantino Nivola che entrambi lavorano negli Stati Uniti quindi entrambi hanno diciamo una allure internazionale però con fermenti altri perché Noguchi orientali e Nivola invece fortemente mediterraneo viene scelto per l'appunto Nivola che molto velocemente in una lettera del 1963 propone a Porcinai le tre possibili opzioni quindi i due templi possono essere estratti e riproposti con un taglio nitido oppure con delle quinte rocciose oppure con le colline le colline è il terzo la terza modalità che viene proposta qui vedete gli estratti dalla lettera di Nivola ed è effettivamente la modalità che è stata poi scelta sia per la fattibilità che per anche la l'accettazione da parte della comunità internazionale e anche della diciamo della collettività e concludo questa presentazione ricordando che i due paesaggisti quindi Porcinai e Hansen si battono perché l'ultima delle loro riunioni riguardasse non diciamo il plauso per il lavoro concluso ma il rilancio per il futuro di Abu Simbel e quindi chiedono proprio stilano una sorta di master plan su quelle che devono essere le linee per i futuri sviluppi del luogo grazie grazie tessa molto molto interessante ma non abbiamo molto tempo quindi corriamo dopo tanti architetti due storici dell'arte i miei colleghi prima Alessandro Cremona collega amico che ha condiviso tanti anni di lavoro nell'ufficio ville storico dell'arte storico dei giardini e lui insieme anche a Sandro Santolini e a Claudio Catecentini hanno curato una mostra e un volume su Raffaele De Vico e adesso ci diranno qualche altra novità su questo tema prego Alessandro Buonasera a tutti ovviamente ringrazio velocemente gli organizzatori la direzione la fondazione l'APGI Maria Vittoria Marini Clarelli e Alberta Campitelli per l'invito Raffaele De Vico appunto abbiamo aperto il convegno con Vincenzo che ha parlato di Raffaele De Vico e appunto della sua sistemazione del padiglione del Valentino e chiuderemo anche con queste due ultime relazioni è ormai considerato diciamo uno dei più importanti architetti paesaggisti italiani del Novecento ma in particolare dobbiamo dire per quello che riguarda la progettazione di giardini pubblici e più ancora in particolare di quelli romani nel ventennio del governaturato è un'attività che ha segnato probabilmente per Roma l'ultima rilevante stagione progettuale in questo senso dopo gli studi pioneristici di Massimo De Vico Fallani qui c'erano delle animazioni ma purtroppo vedo che non funzionano dicevo dopo gli studi pioneristici Massimo De Vico Fallani che però voglio anche qui ringraziare al pari degli altri eredi diciamo dei grandi progettisti che abbiamo e paesaggisti che abbiamo citato oggi in quanto anche lui con un'azione meritoria ha donato l'archivio di famiglia quindi relativo a Raffaele De Vico all'archivio Capitolino che è una struttura di Roma capitale e quindi vorrevo appunto ringraziarlo di questo successivamente la figura di De Vico si è precisata con una monografia del 2017 di Ulrich e Gavli che è proprio incentrata sul rapporto con la politica urbanistica di quegli anni e poi nel 2020 quello che ha citato Alberta un lavoro a più mani curato dalla sua intendenza capitolina in particolare due dei curatori siamo noi scaturito da nuove acquisizioni documentarie che gettano luce ulteriore sulle sue capacità creative e progettuali è sorprendente però constatare che De Vico non ricevette ovviamente un'educazione precipua come architetto paesaggista e d'altronde non era l'epoca in cui questo era possibile ma possiamo dire che acquisì competenze nell'ambito dei lavori che divennero via via assegnati rapportandosi con le idee i programmi che indirizzavano la politica del verde di quegli anni nel 1901 si diplomò perito agrimenzore presso l'istituto tecnico che era di chiedi e nel 1902 entrò nel reggio istituto di belle arti di via ripetta frequentando il corso speciale di architettura qui ebbe fra i professori Luigi Rosso Giuseppe Sacconi Giulio Magni e Manfredo Manfredi che furono tra i promotori dell'associazione artistica fra i cultori dell'architettura che si proponeva lo studio dei monumenti non solo di Roma ma d'Italia finalizzato la loro conservazione proprio in quegli anni grazie a Ettore Ferrari allora direttore dell'accademia viene presentato appunto all'architetto archeologo Giacomo Boni che vent'anni prima si era fatto acceso promotore dell'iniziativa denominata Flora dei monumenti su cui abbiamo ascoltato prima l'intervento di Massimo De Vico Fallani vedremo come il principio espresso da Boni nel 1912 nell'articolo La flora delle ruine secondo cui la flora dei ruderi monumentali va considerata in rapporto al loro insieme architettonico del quale può aiutare a ricostruire mentalmente le linee e i profili originari sarà precetto guida per la sistemazione del parco di Colleoppio dal 1908 inizia a lavorare come aiutante tecnico presso vari istituti ma anche a collaborare con Pompeo Passerini in alcuni dei suoi cantieri fra i quali la palazzina internazionale dell'agricoltura Villa Borghese oggi Villa Lubin ultimata nel 1911 questo era Giacomo Boni Villa Lubin come ha sottolineato Sandro in un ampio saggio dedicato al rapporto fra De Vico e Villa Borghese è forse la prima esperienza di avvicinamento di De Vico al tema dell'architettura nel giardino è probabile che l'impronta stilistica impressa da Passerini nell'edificio una sorta di neosecentismo prescelto per adeguare il linguaggio dell'intervento al contesto circostante resti medotologicamente nelle corde di Raffaele che punterà preferibilmente all'armonizzazione delle sue scelte stilistiche per i giardini con il contesto urbano e con la storia monumentale della città il 23 aprile del 1915 Raffaele vince il concorso al Comune di Roma come aiutante tecnico di terza classe dove gli si prospetterà una rapida carriera innumerevoli saranno gli incarichi di consulente e membro di commissioni decisionali che lo porteranno a confrontarsi sulla politica urbanistica e del verde assieme come vedremo agli ingegni più raffinati di quel periodo incardinato presso la ripartizione quinta lavori pubblici si trova sin da subito a commisurarsi con ideazioni per architettura e da giardino in particolare per Villa Borghese vincendo lo stesso 1915 il concorso nazionale scusate sì il concorso nazionale per il serbatoio d'acqua l'anno successivo si occupa come egli stesso afferma dei lavori della balaustrata al parco dei Daini a protezione dell'affaccio sul giardino dell'erme l'odierno quarto giardino segreto condotta sul modello di quella posta sul piazzale antistante il museo borghese replica tardottocentesca dell'originale asportato nel 1895 negli studi per il serbatoio si rivelano i germi dell'attenzione agli aspetti paesaggistici e di contesto all'interno della villa pubblica più importante di Roma devico come si legge nel giornale il meridiano del 21 dicembre del 25 riprendendo le tipiche cito le tipiche forme del seicento romano cerca di fondere con gusto e squisito equilibrio i caratteri tradizionali del luogo con lo spirito moderno della costruzione notevole è senz'altro l'idea delle grandi aperture porticate e basamentali che rendono permeabile vista e il passaggio attraverso il limitrofo parco e non si ferma l'architettura dopo aver progettato l'inserimento del manufatto nelle gallerie arbore del parco dei daini o in un nuovo giardino formale come vedete sulla sinistra assonante con i vicini recinti e giardini segreti realizza infine a degna cornice un rustico laghetto contornato da elementi antichi di recupero in copia denotando ancora secondo l'articolista quel gusto particolare non comune agli architetti delle ville all'inaugurazione è presente oltre al governatore Filippo Cremonesi alla destra di De Vico che illustra il lavoro lo vedete sulla vostra destra è presente anche il segretario generale del comune Alberto Mancini che sarà una figura chiave per l'evoluzione dell'opera di De Vico sia dal punto di vista creativo sia perché gli favorirà l'incontro e il confronto con i più importanti esponenti della riflessione urbanistica del periodo la posizione di Mancini nei confronti della questione del verde urbano è ricavabile dall'ampio resoconto confezionato dalla moglie Fausta La Penna pubblicata a Postuma e corroborato dalla trascrizione di un identito un identito memoriale del segretario intitolato piano di attività per lo sviluppo dei giardini di Roma da questi testi emerge l'idea di controbilanciare l'espansione edilizia con l'impianto di nuove alberate e giardini soprattutto nei quartieri più recenti e financo nelle contrade dell'agro romano preservando il verde storicizzato che tante lacerazioni aveva subito con l'urbanizzazione post-unitaria comunque il progetto tornando ad evico il successo della proposta progettuale del serbatoio e la perizia con cui evidentemente affrontava i numerosi incarichi assegnategli contribuirono quasi certamente a diffondere di lui l'immagine di un architetto creativo ma al tempo stesso pratico e adattabile nelle soluzioni esecutive ma l'incarico che segnerà per De Vico una volta decisiva per la sua carriera municipale di progettista dei giardini è nel 1923 quello della progettazione di un giardino destinato a commemorare la realizzazione scusate di un giardino destinato in ogni città a commemorare i caduti della grande guerra era stata promossa come Vincenzo diciamo la sua bellissima pubblicazione ha illustrato approfonditamente dal sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Dario Lupi Roma in questo caso appariva in ritardo siamo nel 1924 a causa delle incertezze sul luogo da destinare al parco in un primo tempo si pensava a Ostia Antica scelta che però non reggeva per motivi di evidente perifericità il comune però aveva un piano alternativo e quello di impiantare il giardino memoriale nella Villa Gloria e probabilmente Mancini e Cremonesi agirono da autorità affidando a De Vico lo studio di questa possibilità l'operazione fruttò all'architetto uno straordinario successo personale già dieci giorni prima dell'inaugurazione Cremonesi il governatore aveva visitato il parco riportandone la più gradevole impressione e subito dopo il 3 giugno la commissione artistica dei giardini faceva voto di plauso agli ideatori esecutori e collaboratori per la magnifica opera compiuta già da questo progetto possiamo vedere come De Vico dia forma coerente alle varie stanze programmatiche del giardino il tema concorsuale cioè il parco della rimembranza viene definito in un'area precisa a sud di un altare per le messe di suffraggio con una piantagione di ulivi ognuno dei quali dedicato ai caduti ovviamente con diciamo intento simbolico anche l'uso dell'ulivo il tema celebrativo invece già presente con lo storico mandorlo dei fratelli Cairoli e con la colonna celebrativa lì innalzata in memoria nel 1895 viene amplificato con la rivalutazione del lungo viale detto dei 70 cioè i garibaldini che parteciparono all'impresa del 1867 tangente ai luoghi di memoria che si impone anche con la nastilosi del portale seicentesco di Villa Capponi sulla Flaminia come a significare un epigono dei viali maestri d'accesso alle antiche ville romane poi la conduzione ai nuovi viali carrozzabili che in modo armonico e regolare ascendono alla sommità e collegano i vari punti del giardino scavalcando il viale maestro mediante ponticelli di gusto inglese e dai punti sommitali ma anche dalle fughe ottiche degli stessi viali si getta lo sguardo sul panorama circostante sull'acqua scettosa e sul tevere un territorio all'epoca ancora piuttosto integro e ricco di valenze storico-paesistiche tanto da essere stato individuato nella nuova urbanistica della capitale come parco cittadino l'esempio di Villa Gloria è utile per fare una breve riflessione sulla novità dell'impostazione devichiana rispetto alla maniera consolidata dei giardini pubblici della Roma post-unitaria in generale il gusto di architetti e giardinieri della fine dell'Ottocento inizio del Novecento era orientato verso il genere eclettico e informale di derivazione paesaggistica ma adatto ai ridotti spazi dei giardini romani questo abbiamo anche come ha detto Massimo stamattina anche per motivi economici perché era diciamo più semplice appunto impiantare questi giardini senza dover sconvolgere terreni e appunto preesistenze questo non appare solo nei nuovi giardini privati del periodo ma si insinua anche nelle antiche ville che vedono annullate le loro rigide impostazioni geometriche come per esempio il rinascimentale viridario della Farnesina o la settecentesca villa del cardinal Valenti Gonzaga ristrutturata da Paolina Bonaparte in suo onore ancora oggi nota come Villa Paolina vedete le differenze appunto di trattamento già agli inizi dell'Ottocento nei giardini pubblici postunitari di Roma in prevalenza squares e alberate sulla scia di quanto già realizzato negli anni precedenti di amministrazione pontificia tale mutamento di gusti assurge a regola progettisti e giardinieri adottano il sistema di violetti curviline aiole rialzate baulate e sorrette da scogliere stuface decorate con arbusti fioriti o inserti di fiori stagionali e punteggiate di palme o altre alberature esotiche De Vico già a partire da Villa Glory rinnova radicalmente l'approccio mutuando le idee di Giacomo Boni ma soprattutto quelle di Gustavo Giovannoni in tema di ambientismo l'idea cioè di uno sviluppo della città moderna nel rispetto delle peculiarità dell'ambiente storico artistico e paesaggistico che gli avrà modo cioè De Vico di incrociare diverse volte nelle commissioni comunali a cui partecipa a partire dal 1924 le progettazioni successive di De Vico saranno tutte volte alla ricerca del carattere dei luoghi osservato nei vari aspetti delle presistenze monumentali del paesaggio circostante dell'impronta storica e storicizzata ciò tuttavia non gli impedisce di affrontare anche problematiche di riqualificazione e riadattamento di giardini preesistenti rispettandone sostanzialmente le caratteristiche storicizzate come il caso del più tardo intervento su Villa Paganini del 1934 dove mantiene la fascia esinformale ottocentesca del giardino limitandosi a ripulirlo da superfetazioni e infestazioni e intensificando la rete di vialetti sinusi ma tornando alle nuove progettazioni De Vico in qualità di consulenza artistico per i giardini artistico per i giardini parteciperà in modo permanente a tutti gli ambiti decisionali in materia e verrà dunque un ruolo chiave nella programmazione di nuovi giardini da parte dell'amministrazione municipale in questi consessi che dovevano individuare i luoghi e le nuove impianti fu chiamato anche tra gli altri Marcello Piacentini che avrà su di lui anche una rilevante influenza questa nomina per De Vico fu di estrema importanza perché lo consacrò nel ruolo di esperto di architettura dei giardini svincolandolo sempre di più da impegni di progettazione nel campo dell'edilizia civile richiesti dal suo ufficio di origine infatti dopo due mesi che la commissione si era riunita affidava a De Vico lo studio della sistemazione del nuovo giardino a piazza Mazzini la sua realizzazione a detta della commissione doveva essere tracciata cito a stile e ad arte prettamente romana con formazioni di square contornati da alte spalliere con piantagioni arboree arbustive creando al centro un vasto specchio d'acqua da formare tutto un insieme armonioso e suggestivo l'idea di De Vico la esecuzione di De Vico suscitò apprezzamenti unanimi e fu uno dei progetti presentati alla mostra di architettura del governatorato tenutasi nel 26 a Palazzo delle Esposizioni e come già ricordato da Alberta Campitelli fu citata nel 1948 nel catalogo relativo alla mostra organizzata a Londra da Gelico gli arredi del giardino che osservavano i dettami come diceva la commissione dell'arte prettamente romana fattasi dopo il discorso di Mussolini del 21 aprile del 24 sulla grandezza di Roma prettamente fascista da un lato inneggiavano la gloria imperiale con le colonne diciamo fasciolittorate sormontate da aquile che presiedono il recinto della Piesdò centrale dall'altro da piccole catene d'acqua dei grandi crateri e le pigne intravertine che rievocavano i decori manieristici barocchi delle ville di area romana l'ispirazione barocca appare anche a mio avviso il disegno del giardino nel suo progetto originario che a dispetto di essere un modello della rinascita di un'architettura a fondo schiettamente nazionale rimanda ai modelli di cabine de verdure del giardino francese la piazza giardino inoltre come in un grande rompoin a etual si inserisce in una rete di tracciati viari che si prolunga a Enfilad su piazze fondali naturali dimostrando la sensibilità di De Vicover per la composizione urbana materuata evidentemente nel confronto in sede di commissioni con i luminari dell'urbanistica quali Piacentini Giovannoni e Brasini per Viale Mazzini che collegava da un lato il nuovo ponte Risorgimento e di lì il quartiere delle belle arti e con Montemario dall'altro De Vico pensa a una lunga promenada dal centro tra le due carreggiate indirizzata prospetticamente da filari di cipressi e caratterizzata da slarghi regolari contornati da aiuole con al centro piccoli parterre all'Osanga su questo importante settore viario De Vico tornerà più riprese progettando nel 29 la sistemazione abbidente con aiuole divisorie di piazza del Monte Grappa e nel 1936 progettò il completamento di Viale Mazzini nel tratto compreso tra Viale Angelico e Montemario e proprio per il più alto colle romano già nel 25 aveva predisposto degli studi per la sistemazione giardinistico paesaggistica del Parco della Vittoria vi ritornerà ancora negli anni 30 con un grandioso progetto di ampliamento non realizzato secondo cui alla testata della promenada di Viale Mazzini si doveva innestare una prospettiva di tipo vanvitelliano cioè rovescio con vari episodi tra cui una grande piazza e podromo sul modello della piazza di Siena di Villa Borghese e vari slarghi alberati raccordando le presistenze la chiesa di Santa Maria del Rosario e l'osservatorio astronomico di Villa Mellini con grandi assi laterali e riservando le pendici del Colle verso la Villa e la Macchia Madama ai percorsi paesistico-naturalistici nel 1932 Alberto Mancini nel suo articolo intitolato Progetti per Montemario scriveva l'architetto De Vico aveva studiato il progetto e come sempre in tutti i suoi lavori aveva dato vita a una cosa geniale si trattava di un abbozzo di un'idea ma di un'idea promettente dobbiamo quindi ipotizzare che l'idea di un grande parco urbano sul Colle sia stata quindi maturata nell'ambito del rapporto tra il segretario generale e l'architetto l'esperienza della progettazione a scala cittadina sollecitata a De Vico da Mancini si inserisce nella più ampia riflessione urbanistica dei primi anni del governatorato in occasione degli studi per revisionare il piano regolatore Nathan Senjust di Teulada del 1909 nel comitato tecnico disegnato figurano tra gli altri Piacentini e Giovannoni nel luglio 24 il comitato produsse una relazione in cui prendendo atto delle precedenti previsioni del piano precedente che fissavano sviluppo urbanistico nell'area nord di Villa Borghese dove il verde avrebbe dovuto spiccare come sistema dell'unità di progetto e non come abbellimento si sosteneva in più rielaborando l'idea piacentiniana dell'anello dei parchi già da lui messa a punto fin dal 1915 la creazione di un grande viale dei parchi a congiungere Villa Borghese Villa Glory poi Montemario e da lì alle mura vaticane il Gianicolo l'Aventino la zona monumentale per riunirsi poi al Pincio e di fatto ciò dilatava l'importanza urbanistica di questo asse diario sul modello già attivo delle parkways new yorkesi come per esempio il Bronx River Parkway del 1907 così Mancini sollecitò De Vico ad avviare gli studi per un primo settore il viale di congiungimento tra Villa Umberto I cioè Villa Borghese e il Parco della Rimembranza a partire da questa prima esperienza De Vico si troverà chiamato a studiare una serie di parchi urbani secondo le idee condivise tra Mancini e Piacentini poi ufficializzati nelle decisioni relative al piano regolatore di cui però non ci sarà poi quasi mai attuazione nel 24 studia fa degli studi per il Parco Flaminio di cui verrà realizzato solo un piccolo giardino lineare all'altezza della chiusuola di Sant'Andrea con la riproposizione di una delle cosiddette fontane oscure di Villa Borghese forse anche a richiamare appunto questo tratto di congiungimento di cui dicevamo prima con la Villa Pinciana nel 25 esegue un progetto esecutivo per la seconda zona della passeggiata archeologica di cui oggi è anche accennato Massimo da cui scaturirà la sistemazione dell'attuale Parco San Sebastiano e quella del Parco Appio Latino cioè Parco degli Scipioni del 29 con semplici sistemazioni arboree tali da far risaltare più spiccatamente cito i caratteri della flora romana nel rispetto delle preesistenze archeologiche nel 1926 verrà incaricato di occuparsi anche della sistemazione del Circo Massimo degli studi concernenti l'assetto della Via Appia studi di cui però al momento attuale non abbiamo ulteriore documentazione dal 26 in poi qui cerco di sintetizzare perché viene incaricato di vari progetti su questo grande parco dell'Est che si doveva diciamo dilatare tra la salaria e in pratica Lappia cioè concludere l'anello Lappia anzi fino all'Ostiense concludere l'anello appunto dei parchi l'attenzione si concentrò prima sull'area diciamo del quadrante Est quella dove Piacentini aveva indicato lo sviluppo possibile di Roma cioè il grande diciamo asse direzionale della nuova grande Roma proprio per contrastare anche questa idea di occupazione urbanizzazione totale di queste aree si pensò a questa sorta di diciamo di cesura a cui fu incaricato De Vico di studiare appunto una sistemazione di questa grande area che comprendeva tra l'altro la villa dei Gordiani la tenuta di Centocelle quella di Tor Fiscale e l'attuale parco degli acquedotti e in questo senso diciamo uno dei pregi appunto individuato nel panorama che si godeva da questa parte era quello di essere incorniciato dalle colline laziali e il terreno aveva le ondulazioni necessarie per darle notevole varietà senza costruire ingombri o difficoltà da rimuovere mediante movimenti di terra quindi anche qui c'è una adattabilità diciamo sono progetti che cercano l'adattabilità con il territorio questa proiezione questa previsione scusate che ovviamente rimaneva legata al concetto di quadro di paesaggio che era molto in voga appunto nella ideazione dei giardini in quel momento a Roma si saldava un altro incarico che gli fu dato anche queste sono diciamo acquisizioni recenti di cui si sapeva poco rispetto a De Vigo questo aspetto anche di progettista a scala urbana per il parco sportivo Stiense che sempre nel 26 fu incaricato di studiare anche in questo caso dove essere nell'area diciamo di Tor di Valle risuonavano i concetti di adattabilità dell'ambiente e di quadro paesaggistico Mancini cari a Mancini e condivisi da De Vigo cito ancora nella delibera istitutiva dice l'organizzazione appare facile quando si pensi all'utilizzazione delle colline dove essere un parco sportivo che solcate da strade ad orne di terrazze o gradinate possono costituire un ampio naturale anfiteatro per centinaia di migliaia di spettatori ovviamente dietro queste formule diciamo burocratizzate delle decisioni degli atti del comune si nasconde ovviamente un lavorio d'intesa fra Mancini e De Vigo cioè molte di queste parole le dobbiamo attribuire a questo connubio ancora nel 27 quando Mancini uscirà di scena il grande parco dell'est ci sarà ancora un'ipotesi di definizione con la creazione di un parco stiense detto anche parco littorio e la cui creazione fu affidata a una commissione dove figuravano all'interno sia De Vigo che Giovannoni e questo doveva chiudere appunto l'anello verde progettato in questo senso affine a queste incariche invece il progetto del parco dell'acqua acetosa sempre a lui assegnatogli nel 26 in cui si parlava di un parco campestre cioè diciamo l'indirizzo deve essere quello di un parco campestre tenuto conto di un'area di prevalente appannaggio delle classi popolari che trovava attrattiva per il luogo cito sempre dai documenti nella libertà e nella rusticità dell'ambiente quindi erano una sorta di temi su cui De Vigo doveva esercitare poi la sua fantasia la sua capacità di sistemazione anche qui si voleva contrastare la previsione del piano regolatore che destinava la zona a costruzioni intensive riutilizzando l'antica idea della passeggiata Flaminia proposta in varie forme nel 1883 dal piano Viviani il progetto si limitava però al settore dell'acqua acetosa e del monte San Filippo che è il monte di piazzale delle Muse ai Parioli infatti per questa creazione i canoni estetico paesaggistici sono gli stessi già inucleati per le molteplici iniziative di giardinaggio prima ricordate che dobbiamo quindi ritenere condivise con De Vigo cito alcune cose gli elementi naturali sono di tale valore che sarebbe inopportuno non trarne profitto per un ambiente suggestivo la vicinanza con Villa da Savoia e la pineta confinante un quadro verde che rappresenta una cornice naturale del parco dell'acqua acetosa il monte San Filippo cioè l'attuale piazzale delle Muse doveva offrire una veduta panoramica e grande bellezza e veniva suggerita la costruzione di una terrazza da collegare con un'ampia gradinata la parte più bassa simile nel respiro a quello di Ettinità dei Monti ancora una volta il riferimento alla stagione tardo-barocca romana tema già utilizzato nei progetti della passeggiata a Flaminia e poi elaborati come vedete in questo caso da Rodolfo Bonfiglietti c'è una parte che appunto però di cui ha già accennato Massimo che riguarda i giardini archeologici in particolare questo va a avere un esempio del parco Nemorenzo per far capire l'utilizzo del motivo appunto a scalee incrociate con il grande basamente circolare sul modello di Ripetta o anche di Trinità dei Monti De Vigo si occupa anche della sistemazione del Campidoglio uno dei consulenti fa dei piccoli giardini che ovviamente ispirati al giardinaggio della flora monumentale quindi ispirati a Giacomo Boni sistema la terrazza a bel vedere anche ideando delle soluzioni come per esempio vedete sulla destra questo bellissimo diciamo sedile che circonda l'aiuola molto interessante oggi purtroppo scomparso obliterato e infine sistemando il giardino di Palazzo Caffarelli cioè quello che all'epoca era il museo Mussolini con appunto la riproposizione di un giardino di foggia italiana ma con la collocazione appunto delle collezioni lì esposte a queste si connette ovviamente anche la sistemazione del parco di Testaccio dove vigono sempre gli stessi diciamo criteri di connessione con i monumenti circostanti con le vedute circostanti quindi con la piramide Cestia con le mura vicine con il Tevere liberando semplicemente da poche superfetazioni il colle e trattandolo come una sorta di belvedere cioè rispettandone le caratteristiche ma realizzando appunto una gradonata dei percorsi di ascensione che consentivano appunto da quel punto di vista di godere del paesaggio destinando invece al giardino pubblico le parti più basse poi purtroppo obliterate dalla realizzazione appunto del cimitero degli inglesi nel dopoguerra una medesima diciamo interesse per l'area archeologico saranno le sedre di qui purtroppo c'era un'animazione che si non non vi posso diciamo mostrare le sedre di arbore di piazza venezia per completare la sistemazione del vittoriano erano state previste appunto ali porticate sul modello diciamo del colonnato barberiniano ma invece prevalse l'idea di De Vico di fare questa sorta di giardini pensili con queste diciamo architetture arboree di cipressi e giardini che però erano piantati in modo da non obliterare la visuale appunto sugli scavi e sulle i monumenti diciamo limitrofi come per esempio vedete nella planimetria proprio segnalato dove vengono segnalate proprio le visuali da rispettare e a questo si connette poi infine la sistemazione a giardino della via dell'impero che appunto formava delle quinte di indirizzo giardiniero verso questa grande infilata diciamo retorica che doveva rappresentare appunto l'asse portante della parte centrale che sacrificò la velia di cui oggi però abbiamo semplicemente dei residui per motivi appunto di ampliamento degli scavi archeologici nell'area lì della via Alessandrina vado velocemente dobbiamo parlare però appunto che la sistemazione più importante a tema archeologico era stato il parco del Colleoppio alcuni anni prima nel 26-27 dove in questo caso De Vico lascia un memoriale con poche indicazioni ma che fanno capire quanto lui aderisca appunto a queste idee in qualche maniera diciamo ambientiste ma calibrate anche sulla sulla specificità dei luoghi infatti dice che le zone dell'intervento suggeriscono i caratteri propri del parco che si uniforma la campagna lui la chiama storica cioè l'area storica di cui segue il tracciato monumentale inoltre alle visuali delle grandi vie circostanti e alle esigenze previste il piano regolatore quindi progetta questo parco geometrico stilizzato che riproduce in linea con i principi di Giacomo Boni il disegno appunto a terra delle erme lavorando anche sulle essenze bossinani per delimitare appunto le masse murarie e gli spiccati per indicare dove erano le parti portanti cioè colonne o pilastri in questo caso inserisce un roseto nella parte più bassa e ma poi questo impianto progettuale verrà abbandonato come vedete dalla foto diciamo a destra ma resteranno comunque come capisaldi i punti di visuale ovviamente sull'area archeologica sul Colosseo e Paratino che sono evidenziati dal i due ingressi uno a Nicola Salvi cioè verso il Colosseo con la riproposizione di Erme Canefore un po' sul modello di quelle berniane di Villa Borghese invece la parte via Ruggero Bonghi cioè dal Colle Oppio con una sorta di come dire di straniamento dell'idea del portale cioè i due portali ad arco vengono utilizzati in realtà come non parti veramente strutturali ma come quinte per l'infilata appunto incorniciano la veduta sul Colosseo diverso è il discorso per l'ingresso laterale in cui questo sistema viene ridotto a nicchie semicircolari e qui c'è un richiamo secondo me effettivo alle sistemazioni chiamiamole manieristiche in questo caso di Caprarola della testata del terrazzamento superiore del giardino grande dunque a fianco ovviamente di queste realizzazioni più importanti ci sono poi i giardini di quartiere cui faccio una carrellata a partire dai giardini di Carlo Felice che uniscono Santa Croce in Gerusalemme a San Giovanni e recuperano in quel caso l'idea dell'alberata che era una delle passeggiate pubbliche della Roma anche settecentesca e quindi in voga fino al al papato ma poi si occupa appunto dei giardini scusate dei giardini di quartiere il giardino di Montesacro quello di piazza Verbano sono piccoli studi di square quello di piazza Bologna questa è una foto rara prima delle manomissioni compiute prima ancora della costruzione del palazzo delle poste di Ridolfi Villa Fiorelli si occupa di piazza dei Siculi a San Lorenzo di cui non è rimasto quasi nulla del piazza del Tempio di Ana all'Aventino di cui non è più esistente infine dell'importante sistemazione del Parco Savello di cui non abbiamo tempo di occuparci però voglio andare a finire diciamo con una constatazione sulla capacità anche flessibile di De Vigo di commisurarsi con spazi diciamo che non sono sprettamente quelli anche cittadini ma diciamo calibrati su altre esigenze per l'agro diciamo abbiamo di fatto due progetti importanti uno è quello del Parco di Ostia dove sistema un giardino che appunto riprende il discorso delle visuali incentrate su ciò che era esistente tenendo conto che era una zona ex di Palude quindi completamente diciamo abbandonata la riqualificazione col passaggio della via del mare anzi del Cristoforo Colombo la via imperiale necessitava di una sistemazione di quest'area e quindi riprende il discorso appunto gli assi visuali incentrati sulle emergenze appunto delle preesistente ma più interessante è il nel dicendo successivo questa sperimentazione fatta insieme al direttore dei giardini Bruno Baschi è un parco naturale che occupandosi dei tracciati dell'attraversamento della tenuta di Castelfusano in cui mette in atto strategie ecocompatibili dichiarate esplicitamente cioè i tracciati sono sperimentati sul luogo addirittura a dorso di mulo cioè il mulo ecocompatibilmente percorre una strada che è quella classica diciamo non imposta dalle esigenze umane ma della comodità e del rispetto in qualche maniera dell'ecosistema e quindi abbiamo ritrovato questa planimetria in cui sono segnate questi tracciati e si vanno a sposare anche con una memoria di Massimo che diceva non so se tuo padre diceva che gli raccontava Raffaele che appunto a dorso di mulo aveva tracciato questi impianti dunque di queste istanze innovative sarà impregnato l'ultimo progetto di giardino pubblico escludendo ovviamente quelli dell'Eur di cui non parlerò vale la pena soffermarsi un attimo perché è il giardino del parco Cesti oggi il parco della resistenza in cui la planimetria è stata resa nota da Mediale Tizia Corsi questa planimetria riporta in calce le considerazioni che stanno alla base della ideazione di De Vico lui dice il parco è costituito in relazione alla funzione della luce solare mercè applicazioni di gnomonica al fine di raggiungere la modellazione della luce e dell'ombra rispetto ai visitatori e alla vegetazione al di là delle osservazioni sull'impianto del giardino importa qui sottolineare che De Vico qui cerca di mutuare un approccio scientifico è probabile che questa scelta sia stata influenzata dal contatto con l'architetto Gaetano Vinaccia che dal 1930 era incaricato per l'insegnamento di disegno geometrico al liceo artistico presso Ripetta dove anche De Vico insegnava dal 35 nel 38 Vinaccia aveva pubblicato con Epli il corso del sole in urbanistica ed edilizia contributo alla razionalizzazione dell'architettura quindi riportando in auge questa scienza a cui diciamo fa riferimento anche se non parla di giardini ma solo di piantagioni stradali ma in cui risuona forte appunto l'aspirazione a una disciplina nel costruire scelte regolate da scelte razionali ma anche creative e da un suo passo sembra appunto descrivere proprio la come dire il profilo di Raffaele De Vico come vedesi un complesso armonico di sapere deve assommarsi in un unico individuo cioè il progettista per poterne ricavare utili risultati è una nuova disciplina che sorge per l'architetto di domani che alla naturale disposizione artistica sposerà la sapienza tecnica necessaria per materiare le nobili astrazioni della sua fantasia e penso che questo sia un ritratto del tutto come dire calzante per l'attività di De Vico volevo finire mostrandovi i parchi a tema che è un altro elemento il parco Ne Morenze di cui però è solo il titolo di parco virgiliano ho finito dopodiché il progetto mai realizzato ormai fuori dai giochi diciamo di incarichi pubblici per il parco dantesco di Montemalo insieme al letterato Rarino Nicolai del 51 su cui però hanno studiato appunto Marcello Fagiolo Simone Quilici che però dimostra ancora una volta la capacità di questo multiforme ingegno di adattarsi alle varie esigenze alle varie richieste di progettazione dei giardini grazie allora purtroppo sono veramente desolata nel dire che ci cacciano fra due minuti per cui l'intervento di Sandro Santolini lo dobbiamo spostare domattina perché col fatto che ognuno va fuori di cinque minuti ognuno va fuori di cinque minuti alla fine non ce la facciamo quindi mi spiace moltissimo mi spiace anche non avere tempo di discutere un attimo di tutte le cose che sono emerse vediamo se riusciamo ad avere domattina qualche minuto in più abbiamo un po' più di tempo vi aspetto tutti domattina siate puntuali per sentire la seconda puntata su De Vico non è sicuro va bene diamolo per sicuro va bene scusate grazie a tutti per essere stati presenti e a domani grazie grazie